Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche se i mezzi pubblici sono carenti, ma siamo arrivati qua. Come diceva Rodolfo, faccio parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ma faccio anche parte di Libri.tv, che sta riprendendo l'intero evento, che è una web tv ed è rivolta all'informazione. Abbiamo parlato proprio prima, si è sentito proprio il bisogno di ricordare che i radicali, purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, sono sempre meno presenti in televisione e sui mezzi stampa, pur essendo i temi molto importanti. Temi importanti che sono stati ricordati qui oggi, come le carceri, la giustizia e i diritti civili. Quindi, cosa possiamo fare noi? Mi rilaccio anche a un discorso fatto da Luigi Pazzotta, l'importanza appunto del militante. Si dice con militanti, si ricorda tanto. Il militante è una figura molto importante, in quanto è la persona che riescono a vedere per primi gli elettori. Non avendo appunto a nostra disposizione mezzi economici, le televisioni o comunque la stampa in genere, l'unico modo che abbiamo per essere presenti sul territorio è quello di organizzarci in piccole cellule o comunque in piccoli coordinamenti che facciano conoscere questi temi sempre importanti che sono quelli alla fine radicali. Un'altra cosa che mi preme ricordare è che da qui a breve si svolgerà il congresso dell'Associazione Radicale di Certi Diritti, che quest'anno, come sede, ha scelto proprio Napoli, la città di Napoli. Quindi io invito tutte le persone, non soltanto di Napoli, ma di venire qui a Napoli, perché è importante che battaglie radicali, come la legalizzazione della prostituzione, l'antiproibizionismo, i diritti civili, il matrimonio egalitario, ma parliamo della riforma del diritto di famiglia che Marco Pannella reclama a gran voce. Nella riforma del diritto di famiglia si consolida anche il divorzio breve che un nostro compagno, Diego Sabatinelli, ha fatto appunto il principio cardine della sua battaglia. Un'altra cosa che voglio ricordare è per la presenza di Annalisa Chirico, che è stata qui oggi al settimo congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, ha presentato il suo libro. Nel suo libro c'è una frase molto importante, siccome l'Associazione Radicale per la Grande Napoli ha sempre manifestato per i diritti delle persone in regime di detenzione, questa frase dice che il suicidio è l'unica via di uscita, alle volte, per appunto venire fuori dal carcere. Ecco, io credo che noi dobbiamo fare in modo che questa non sia l'unica via di uscita, purtroppo che si ritrova una persona a scontare a un regime carcerario che di certo non è tra i migliori nel mondo, rispetto insomma a esempi come quello di Stefano Cucchi che addirittura dopo tre anni di inchieste per lo storio italiano dicono che sia morto per malnutrizione. Quando abbiamo visto benissimo le foto pubblicate dalla sorella, non era una persona malnutrita, non in sette giorni di prigionia, perché di prigionia si tratta. Io dico che l'impegno dei radicali, di tutte le associazioni radicali, nello specifico della associazione di cui faccio parte, che è la associazione radicale per la Grande Napoli, è quella di vigilare sul rispetto della Costituzione, perché la Costituzione oggi più che mai è fatta a brandelli e in più delle volte mai rispettata. Dicevo prima, dai diritti civili, dal diritto stesso di cura, dalle scelte di cura, dal fine vita, sono temi radicali. Il problema è che spesso e volentieri sono altri partiti che fanno proprio le battaglie nostre o comunque che abbiamo iniziato noi e per mancanza di mezzi non riusciamo a portare avanti. Di conseguenza io termino il mio intervento brevemente perché voglio dare spazio anche agli altri che sono intervenuti qui oggi, augurandomi che molte persone si iscrivano alla associazione radicale per la Grande Napoli perché rappresentano soltanto un barlume di speranza per il Sud, ma di certo è l'esempio che in Italia, anche dal Sud che spesso viene distrattato, o qualcosa di buono può ancora accadere, una piccola scintilla radicale. Quindi una rivoluzione radicale dal Sud. Grazie ancora a tutti, grazie per il vostro intervento e per il vostro intervento. Grazie ancora. Grazie Riccardo, spero che allora continuerai anche tu a rinnovare la testa. Già è rinnovato. Ok, allora, bellissimo, se andiamo avanti così, ispiriamoci tutti a parlare e facciamo la propria dichiarazione dei redditi. Allora, volevo anche dire che anche noi siamo a Napoli, nella consigliatura del sitaco dei Magistris sembra che si apra una stagione nuova rispetto ai diritti che abbiamo avuto il registro comunale, insomma delle coppie non convenzionali, non so come dire adesso, ma ci sono state varie occasioni in cui il sitaco ha parlato dei temi che noi abbiamo proposto all'attenzione come quelli della Costituzione, il proiezionismo sulle droghe, eccetera. Quindi noi chiediamo che ci sia la possibilità non solo di discutere di certi argomenti, ma poi di avere effettivamente dei progressi, delle riforme, per esempio attendiamo l'approvazione del registro dei testamenti biologici, come di Napoli, che è depositato in Consiglio dalle precedenti consigliature. Va bene, ho fatto questa interruzione per appunto ringraziare Riccardo che c'è un nome della sua iscrizione e passo la parola a Roberto per presentare un ospite. Allora, sono veramente molto contento della presenza del segretario e del presidente della comunità tanzaniana in Italia e gli do il benvenuto, cari puni. Il presidente ci porterà, il presidente Cosci ci porterà un suo saluto e spero vivamente che si aprirà una stagione di collaborazione e vedremo un po' anche, diciamo, di conoscenza reciproca, qualcosa anche di culturale, non solo, diciamo, di attivamento politico, diciamo, nel senso istituzionale. Buonasera a tutti, mi chiamo Abramman, sono presidente della comunità tanzaniana in Italia, ho chiesto a Roberto se posso parlare in italiano, non dico tanzaniano perché forse non posso spiegare bene in italiano. Se vuoi ti traduco. Sì. Allora, una seconda, qua, qua Luca è a chi? Parlerò in suo ili. In Luca parla che è una lingua in anghelia, in Tanzania. È una lingua che si parla in Tanzania, molto grande. Non c'è in base a Zipo Karibu in Tanzania come Uganda, Rwanda, Zaire, Longo, Mozambique, Zimbabwe, South Sudan. E si parla di tutte queste lezioni che ti ha appena nominato. Quando hai appena parlato con la Zangu come una radicale? Adesso vuole parlare con quella radicale presentata? Mi ringrazio per avermi dato questa opportunità per parlare un po' con voi. Quando hai appena parlato di una storia di Fubia? Voglio iniziare a spiegare la mia piccola storia. Perché ho visto che l'associazione radicale si occupa molto degli immigrati. Io, brevemente, dopo aver finito gli studi... Ho deciso di andare fuori dalla Tanzania per migliorare il mio stato di vita per lavoro. Poi ripetere una rossiccia dell'Italia. Dopo quando sei arrivato in Italia ho deciso di rimanere qui. Ho cercato il nuovo lavoro. Ho cercato il nuovo lavoro. Ho cercato il nuovo lavoro. Io ho cercato ilentially e quindi ha costruito una famiglia qui poi ha fatto una famiglia papà qua Sisi non ha sembrato la famiglia di Sisi non ha sembrato la famiglia di Sisi diciamo che la vita non è possibile dovunque adesso vivo da qui da qui da 29 anni non ho le famiglie di Sisi non ho mai visto non ho mai visto si è così che ho visto ma ho mai visto un po' sauti chi dopo? ho mai visto un po' ho vissuto bene qui e mi sono trovato bene e poi ho visto un po' ci sono i problemi della vita diciamo quotidiana ora come e poiché ho visto la famiglia che vedete se fossero diciamo avevo stato migliore avrei avuto la vita di ritornare in Tanzania però Lui dice che ci sono tante altre persone, tanti altri tanzaniani che non hanno avuto le sue stesse possibilità e la sua stessa sorte. Lui dice che è possibile anche una vita in Tanzania dignitosa e salama in pace. Si va dicendo così, siccome ho lasciato tutti tranquilli i miei paesi, allora ho la decisione di tornare a vivere un'altra volta lì o a rimanere qui. Però tanti dei nostri fratelli non hanno questa possibilità qua perché l'improvisto di mattina o di sera forse scoppia qualche guerra, qualche problemi, allora loro si dicono di scappare. Scappando si trovano in questo paese, diciamo, come Italia o altri parti. Però quando arrivano lì, diciamo, un posto come questa qua, altri si troveranno, si trova buona accoglienza, però il maggiore non trovano buona accoglienza. Quando si trovano buona accoglienza lo dicono, come ho detto? Li prendono, li mettono in campo, in campo di conoscenza, una cosa di questo non posso spiegare. Ah, il CIE, è stato parlato dei CIE, dei campi di identificazione e di espulsione. Allora, dopo che l'individuo hanno che loro vengono a tale parte, loro li prendono o lo vogliono mandare indietro a un posto che non possono tornare perché la loro casa non li trovano più, non trovano lavoro, la città è distrutta, quindi io so parlare qui dicendo che una persona di questa che è scappato, ha scappato dal suo paese della guerra, non si può vivere, quando viene in un paese che almeno c'è pace, questa persona di qua spera di avere molto avvolenza, di poter essere aiutato, di trovare un lavoro, di fare una vita bella come fanno gli altri, però invece di questo, se si trova in qualche situazione che lui o lei deve tornare al paese, questa cosa qua non è giusta. Allora, io sto dicendo questo punto qua, siccome l'associazione si occupa di questo qua, di accelerare, di dare molto forte su questa cosa qua, perché tanti di noi stranieri soffriamo. una settimana fa ho passato qui a Porta Capuana, credo che alcuni sa dove, qua dietro, di sera, ho visto due stranieri o polacco o polacco o polacco o polacco o polacco o polacco, i ragazzi del posto hanno buttato bottiglia a preso, soltanto che loro sono stranieri, non hanno fatto niente a questi ragazzi, però diciamo, hanno deciso di fare questo perché loro non ci hanno, nessuno, forse di difendere, perché sono stranieri, questo è anche un altro appunto che da, diciamo, a voi, diciamo, di sapere questa cosa che succede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. perché il cognome non è uguale, quindi per essere colloquio deve avere un fratello o una sorella con nomi uguali, loro stanno lì, non hanno un fratello sanguino, allora non ci hanno messo a diritto qua, ho trovato in modo che almeno perché sono loro presidente potrebbero andare almeno a salutare, a vedere come stanno, come vivono e noi siamo riusciti ancora, allora do anche questo davanti a voi per vedere se voi può risolvere questo fatto dopo questo do tanti, tanti, mi ringrazio grazie a tutti loro che mi hanno invitato a dire queste due mie parole e grazie anche a voi per essere accorto a seguire quello che sto dicendo, vi auguro buono riscuramento grazie a tutti grazie, grazie a tutti e spero che ci rivedremo presto, grazie ora la parola a Aldo Ruggero, un compagno che abbiamo conosciuto a congresso e quindi siamo felici a congresso di radicali italiani e adesso abbiamo qui al congresso dell'associazione per la parola buonasera a tutti io vorrei fare un breve scusso sui temi che sono stati trattati oggi e che riguarda più meno il mio campo di interesse e quello della disfizia, si è parlato molto dei ricacci che sono pieni, gli immigrati soprattutto, l'antipedizionismo, l'accelerazione per il corpo, però si è parlato poco di come risolvere completamente il sito, l'amministia è la cosa più veloce e la cosa della faccia, però ovviamente se non si prendono i provenimenti problemi, rimane un provenimento isolato e non risolve definitivamente il problema. Il problema è cercare delle pene alternative ed è stato dimostrato che nelle carceri dove si opera, cioè nelle carceri di opera di Milano, dove il russo di mantenimentazione del lavoro in carcere, dove si fanno dolciumi anche al carcere di Pozzuoli, in effetti si vende il caffè che è vero, la percentuale di persone che ritornano a delinquere si abbassa del 10%, nelle carceri di quelle dove non si occupa di farle ritornare, di farle lavorare, di misure alternativi alle attenzioni, la percentuale di quelli che vengono messi fuori per fine 20 e dell'80% ritornano di nuovo dopo pochi mesi. Quindi la risoluzione del problema è affidata, adesso i tempi tecnici per l'amnestia, ovviamente sappiamo che il Parlamento è illegittimo, non ci sono. Un governo altrettanto illegittimo che è stato tutto un colpo di Stato effettuato il 13 novembre 2011 dal nostro Presidente Napolitano, per cui a un Presidente del genere è inutile di appellarsi, perché cosa vogliamo sperare che ci dia spazio o che ci dia risposta? Quindi uno che ha certificato un colpo di Stato senza armi, cosa vogliamo sperare da un Presidente della Repubblica che nel 1956, durante l'occupazione sovietica con i carri armati dell'Ungheria, espresse e solidarietà all'Unione Sovietica e non ai martiri ungheresi. E quando è andato in Ungheria, gli ungheresi se lo sono ricordato questo fatto, l'hanno preso a Pomodori, notizia che non è mai comparsa sino in alcun organo di Stato. Quindi sperare che questo Presidente della Repubblica ci dia risposta è una speranza vana, dobbiamo solo sperare che in un nuovo Parlamento, indiegittimo anch'esso, delle regole che vengono cambiate due mesi prima del voto, che rimarranno le stesse, gli tornerà un Parlamento di nominati e non un Parlamento di eletti. Come risolvere l'affollamento dei processi, dei 5-6 milioni di processi che vengono? Beh io mi rifaccio a una proposta che fu fatta dal lavoro al Ministro della Giustizia di Rolta, tra il 92 e il 94, Giovanni Maria Ficca, propose tanti anni fa di presentare, diciamo, o la voglio chiamare una pagella dei magistrati, cioè da romboso alla produttività. Siccome allora all'epoca si era dei magistrati, di mio delle manette e cose, ci fu una rivolta popolare, non si era mai, perché loro sono indipendenti, chi per mai si può permettere di dare il voto, di dare la produttività di un magistrato. I magistrati sono magistrati che lavorano e altri che non fanno un giufolo dalla mattina da su. Quindi la prima proposta che faccio è quella di prevedere, come l'ha fatta pure al Congresso in effetti cipulio l'intervento di Abramo, dell'economista, l'unica cosa forse sensata che disse in quell'intervento fu quella di prevedere, diciamo, una pagella dei magistrati, perché io siamo sconsatuti al Cime, l'abbiamo sentito, in tutti questi anni in cui c'è stata questa legge a prova prodotto, perché per quattro condanne solo sono miei e praticamente inutili. Abbiamo un CSM, cioè i magistrati si controllano loro stessi, perché c'è una percentuale politica, ma vengono generalmente nominati dei magistrati che sono diventati ex magistrati che sono politici nel CSM. Quindi, praticamente, ha prima riformato anche il loro organo di auto-proverso, prima di poter prevedere che ci sia la possibilità di avere delle risposte serie in materia di affollamento delle cause e di prescrizioni a cuoco che si hanno, prescrizioni che vengono sono favorite ovviamente dalla lentezza, dalla burocrazia, dalle mancate notifiche, si operano addirittura ancora i carabinieri per modificare gli atti penati. Cioè, un'altra cosa, perché non utilizzare gli ufficiali giudiziari oppure i personali civili per modificare altri penati? Cioè, toglierebbe una serie di tatti, di errori che si commettono, molti processi vanno a mare, perché, casomai, non è stato comunicato all'indagato la prosecuzione delle indagini preliminari, il decreto di prova. Si arriva in Cassazione che, praticamente, colpevoli, noi lo sappiamo, dai faschi che vengono. Nel merito, nel rito, la Cassazione dice, no, come è stato avvisato? Va a mare di tutto un processo che è costato anni e anni a tutti. Secondo che vorrei soffermare, poi, sulla logica dell'accudienza delle popolazioni che vengono dai paesi del Mediterraneo. Praticamente, noi abbiamo sempre paura che questi, io lo sa cosa, si portino, che siano negli udori di Alessandro Manzoni dei Promessi Sposi. Questi centri, praticamente, non sono altro che veri e propri, moderni campi di concentramento, dove queste persone sono rinchiuse senza sapere il perché. Attendono mesi senza sapere cosa stanno a fare in dentro. È ovvio che sono un copo di rivolta, sono un insieme di persone che si ribelleranno prima o che è già caduto a Lampedusa, che è già caduto a Pari-Palese, che poi è stato giusto in Pari-Palese, grazie a interventi radicali che sono stati molto forti su questo tema. E poi, noi dobbiamo che a Roma, per esempio, ho sentito che c'era molta sfiducia, non abbiamo soldi, come si fa a fare. Qua ci vogliono sudore, passione, lacrime e sangue. Perché senza di questo non ci la fanno, non è una questione economica. Perché il coraggio non è nel fare, ma nel credere possibile. Quella è una cosa importante. E dove gli altri si fermano, noi ricominciamo. Questo è importante. Quindi io posso offrire questo mio contributo di lacrime, sudore e sangue, affinché le idee radicali viaggino tra la gente e non rimangano tra di noi, non ci piangiamo addosso. Perché a Roma questo l'ha avvertito. Molto piangersi addosso. Dove pigliamo i soldi, come facciamo a pigliare le firme, come organizziamo. Sembrano sacrifici. Noi abbiamo dimostrato con l'associazione che sono state raccolte in una giornata davanti al carcere di Poggiorella, 860 pili. 170. Quindi in una giornata. Di agosto, forse? No, in due ore. Due ore. Quindi dov'è questa cosa che a Roma si pensava? Come si fa? Come si presentano le liste? Cosa si fa? Ma eh, voglio dire, basta sacrificarsi. E poi… Basta un cartello giallo con un segretario sospetto. E io stesso l'ho fatto e il segretario mi ha impostato come esempio da seguire quello di essersi messo… non mi nascondo che l'ho fatto dall'età di un diciamo, che è come manifestazione. E proteste contro questo Stato e queste elezioni in Egitto, perché le elezioni, guardate, sempre in un momento di democrazia, ma anche in Bulgaria, nella Bulgaria Sovietica si notava. E tra tutti raggiungono il 98% di consensi. Quindi non è l'elezione, ma come si tengono queste elezioni in questo Parlamento di nominato. Quindi direi di… io offro questo contributo e anche di chiedere ad altri di ottenere il mio stesso contributo e di avanzare e di portare in giro le idee radicate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mia, e lui. Noi il sangue, il sudore… cioè noi il sangue e il sudore lo vogliamo mettere, però speriamo che al sangue non ci arriveremo mai. Anche perché abbiamo già il segretario, Luigi, che sempre detto… com'è? Salute? Sord… qual'era la terza? Tempo. Esatto. Quindi siamo arrivati a una ulteriore progressione però non è proprio così che intenderei il ruolo militante e danno tutto quello che possiamo dare questo è sicuro comunque per metterla così potete spiegarci per un po' perché Lodolfo sta soffrendo una crisi di sonno devo anche la notte non si dorme devo anche ricordare a tutti che il senatore Marco Redduca è ancora in sala si segue di favore, lo ringraziamo e quindi adesso vorrei fare intervenire Donato Salzano il segretario dell'associazione Maurizio Lorenza di Salerno che tra l'altro come ci dirà domani avrà il congresso dell'associazione a Salerno viene qui per portarci un saluto è iscritto all'associazione ovviamente e quindi fa entrambe le cose lo ringraziamo compagnie compagnie prendo qua il cui pensavo un po' a cosa potevo raccontare visto che io spesso vanno due tessere nella tradizione radicale anche tessere all'interno per essere esterne quindi spesso io mantengo la tessere della grande Napoli e la tessere della mia associazione cosa raccontare la comune militanza la comune lotta politica quella non violenta in questi giorni in questi settimane in questo momento a quella felice espressione che forse ha trovato il compagno scusate ma il mio terreno è uno squibito non pensavo di intervenire subito Rodolfo diceva giustamente sto preparando il congresso di Radica di Salerno dell'associazione di Soprenza e quindi stavo messaggiando però spero di poter possiamo venire domani certo o no domani alle 10 domani alle 10 siamo ma pure a Franco Levi che vuoi prendere ma esageriamo messaggi di video pure a Franco Levi siamo siamo all'associazione La Tenda perché l'associazione La Tenda noi facciamo sempre il congresso ogni anno l'associazione La Tenda è un'associazione che si occupa di ripetere e spesso lo fa portandoli via dal sovraffollamento carcerario ma noi vogliamo farlo spesso e lo facciamo con un criterio ogni anno lì perché come incontrare l'associazione di uccioli al congresso del Cora e tra l'altro la nostra associazione è intitolata l'associazione nostra è intitolata a Maurizio Provenza che del Cora è stato un fondatore facciamo un applauso per l'associazione e quindi ogni anno noi vogliamo rincontrarci riconoscerci proprio utilizzando la sede dell'associazione La Tenda come il Cora utilizzò per il suo congresso San Patrignano quindi dicevo in pullman pensavo cosa poter dire ai compagni di Napoli pensavo alla comune di Vitanza l'entrare e le uscite delle carceri la nostra visita a Poggio Reale ma il pensiero andava più che altro non al sovraffollamento carcerario ma al sovraffollamento nelle aure dei tribunali la violenza che si subisce nelle aure dei tribunali non è meno dalla violenza che si subisce nelle carceri la nostra militanza a Salerno e quindi credo e sicuramente anche quella dell'associazione di Vandenaboli che è stata volta all'incontro con la comunità penitenziaria escono escono le voci dal carcero escono tante voci sono voci di sofferenza voci di ormai di una comunità che ha lo sbambio si riesce soltanto a rimanere in piedi con la dignità e spesso con la dignità della non-violenza ieri mi sono consentito con una recente di polizia benitenziaria è stato qui al congresso l'anno scorso e del SAT no il carbo del piede il responsabile del SAT per provinciale sarebbe qualche giorno fa c'è stata un'evasione ad Avedina ormai gli agenti non riescono a garantire neanche il minimo di sicurezza cioè mi racconta che ormai le carceri sono delle carceri di casa noi ci troveremo fra poco e probabilmente al compagno libera nel senso che le mura delle carceri sono talmente facili e talmente facili da scavalcare che qualcuno come quelli di Avelino ne continuerà ad approfittare sistematicamente lui mi ha risposto però sai molti di loro non abbandonare non abbandonare il carceri perché spesso per molti di loro è l'unica possibilità di rimanere in una comunità perché molti di loro sono senza fissa di moda molti di loro sono stranieri e quindi ancorché in una condizione disumana in una condizione palese di violazione dei diritti umani si riconoscono in una comunità e in un minimo di incontro tra le persone e mutuo soccorso tra le persone in molte cene ci sono persone che non riescono neanche più a portare avanti la loro esistenza persone in dialisi recentemente ci siamo occupati di un caso Paolo Maggio era un ragazzo di Partipaglia ha 34 anni e in dialisi a Parma purtroppo a pochi giorni non c'è un magistrato un giudice di sorveglianza che pensa di poter far trascorrere gli ultimi anni gli ultimi spero anni gli ultimi giorni a casa a dati pari ci sono di queste tragedie ma di Paolo Maggio fortunatamente se ne fa carico il suo compagno di scena e grazie al suo compagno di scena noi siamo riusciti a sapere che esisteva Paolo Maggio e la Rita come al solito puntualmente fa l'interrogazione che è un'interrogazione che come tante altre non ha una risposta prendo qui ho letto di quest'idea la rosa della rosa del pugno stringersi intorno alla rosa del pugno per queste elezioni forse potrebbe essere la speranza l'occasione l'occasione è per tutti quelli della comunità penitenziaria per quelli che sono ristretti perché stanno attendendo una pena e per quelli che ci lavorano e scontano la stessa pena per i familiari dei detenuti la settimana scorsa ho incontrato un'altra persona che è uscito il 25 e non è mai impredato a contrarre a contratto un duro e allora noi lotteremo per il diritto di questa persona tutte queste persone concluderanno al nostro congresso e non solo si iscriveranno all'associazione intitolata a modizio provenza ma si iscriveranno al circolo di nessuno d'occhiaino che andremo a fondare all'interno del congresso e che intitoleremo ad un'altra persona un altro compagno che ci ha lasciato da poco tra il copiore gli facevano schiare e conosceva la tragedia degli obg quindi questa comunità penitenziare che potrebbe avere il coraggio di portare nel pugno la rosa come diceva Corriera Ballacci no? quando non era ancora stata colpita dalla sua demenza aveva il coraggio di dire a radio radicale la rosa nel pugno si porta tra le mani e bisogna avere il coraggio di portare la camera penale ha deciso di diventare militante questo è un esempio che possono avere tutte le camere penali ha deciso di stringersi insieme ai radicali per questa lotta e con questa lotta ha deciso di fare ha deciso di fare assemblee periodiche insieme ai radicali e con i radicali ha deciso di presenziare al concreto domani al congresso degli radicali anche simpolicamente domani vogliamo aprire il nostro congresso con un videoclip che si è realizzato un compagno per la tre della tigura di carne confuciata Mancuso si apre con una meravigliosa intervista a Leonardo Sciascia e poi immagini della nostra lotta sulla giustizia giusta il caso torto il referendum sulla giustizia giusta e il referendum torto ma quella intervista a Sciascia deve essere in questi giorni in questi giorni in queste ore di lotta per ammuniziare la Repubblica un manifesto parla della Costituzione di carne e immagino che si trattava di un'intervista della fine dell'inizio degli anni Ottanta quando si lozzava per la giustizia giusta questa Costituzione la stanno mangiando a pezzi se la sono mangiata a pezzi il compito e il ruolo dei radicati è quello fortunatamente senza svenare però facendo i digiuni spesso rinunciando anche ai liquidi quindi facendo la sede è quello di portare con coraggio la rosa nel pugno ed evitare che continuino a mangiarsi la Costituzione è in diritto grazie ora diamo la parola ad Emilio Martucci che fa parte anche del Comitato Nazionale dei Cari Italiani lo ringrazio perché Emilio sarò un militante anche oggi sarò lì insomma a fare un sacco di lavoro che ci servono per organizzare il congresso e magari insomma è riuscito anche a recuperare un po' di soldi la notizia che possiamo dare è che la sala ce la siamo autofinanziata anche quest'anno e poi un applauso per il piano contribuito l'esperimento è andato bene anche quest'anno ma è bene consentitemi di ringraziare una persona che sostanzialmente non ha parlato non ha parlato qui voleva parlare però per l'impianto istituzionale non ha potuto parlare è che il presidente del Tribunale di sorveglianza d'arbitro di esposo e vorrei che questo è stato un grosso grosso applauso perché è una persona che nonostante le diversità delle divergenze che abbiamo è una persona che abbiamo sempre disponibile al dialogo e addirittura ha consegnato con le mani il nostro Marco per cui ha un progetto di legge da portare al Senato un grazie che ha contribuito anche con 120 euro tra l'altro bravissima ecco comunque consentitemi di dire due parole quello che abbiamo affrontato è stato un anno intenso durissimo pieno di iniziative di battaglie iniziate vissute almeno per quel che mi riguarda ma penso che riguarda tutti i militanti di questa associazione con emozione e compassione eravamo pochi pochissimi ma nonostante le notevoli difficoltà i numerevoli litigi che abbiamo avuto tra te questa associazione credo che sia cresciuta in termini numerici e in termini di iniziativa politica cercando di dar corpo mano volto alla speranza ai sogni di ciascuno di noi non abbandonandoci mai alla facile disperazione o all'antipolitica ecco ognuno ognuno di noi nel suo piccolo nel suo non essere professionista della politica ha cercato di farla una politica diversa e di cercare di costruire in questa affascinante realtà partenopea una pattuglia democratica radicale certo le difficoltà ci sono ma è proprio nei momenti di crisi che dobbiamo imboccarci di maniche cercare di trovare quegli stimoli giusti per continuare a lottare e ad inventarci iniziative politiche il momento il momento è drammatico sotto tutti i punti di vista culturale sociale economico e quello che stiamo vivendo piaccia o non piaccia è il frutto di tutto quello che i radicali hanno denunciato da 60 anni è sintetizzato in maniera splendida la peste italiana la partitocrazia le istituzioni e lo stato fuori legge violatore della sua stessa costituzione sembra quasi che stavolta si abbiano seri e fondati timori che non si riescano a trovare gli anticorpi per uscire da questa crisi che prima che economica una crisi di democrazia di legalità ma da radicale da democratico da socialista non voglio smettere di lottare non voglio depurre le armi non voglio arrendermi ma con rabbia appassionatamente voglio anche anche morire gridando denunciando tentando di costruire qualcosa di autentico di vero vita anugibile e illudermi magari e sognare e sperare che è possibile cambiare qualcosa in questo nostro paese in questa esperienza radicale napoletana ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere delle persone che mi hanno fortemente stimolato che mi danno la forza e l'entusiasmo necessario per andare avanti quando lo sconforto sarebbe la più semplice soluzione in nome di sempre diverse costituzioni materiali abbiamo distrutto la costituzione scritta devo dire che si è consolidato a livello legislativo nella prassi un abitus di tipo emergenziale le origini tra l'altro sono assai risalenti ma quest'abitus emergenziale non può non testare preoccupazione in ordine e in rapporto alla difesa dei diritti dell'individuo in realtà vengono messe in discussione le garanzie fondamentali dell'individuo ecco le garanzie rappresentano l'espressione più significativa di quel lungo e tormentato processo evolutivo che ha tratteggiato lo svolgersi della civiltà giuridica contemporanea per cui non è possibile in strutture ordinamentali ispirate a democrazia sia pure al fine di combattere gravi fenomeni criminali anche gravissimi fenomeni criminali adottare rimedi normativi e prassi giurisprudenziali che finiscono per fare scivolare i sistemi penali verso preoccupanti forme di arbitri essi hanno costantemente caratterizzato i momenti più difficili per le ragioni degli individui se pensiamo ai termini di efficientismo o funzionalismo designano forme di repressione oggi sempre più diffuse in questo paese e nell'Europa premio Nobel per la pace in paesi le cui costituzioni pur mantengono i principi di uno stato sociale di diritto del diritto penale liberale quindi l'efficientismo penale costituisce l'ultima variante di quello che Marco Marco Mannella chiamava diritto penale dell'emergenza è una degenerazione che ha sempre accompagnato la vita del diritto penale interno l'emergenzialismo le leggi di polizia a fianco al monumento liberale il diritto penale torna ad essere la prima razio della politica sociale una sorta di illusoria panacea con la quale si vogliono affrontare i mali ed all'interno di questo processo l'efficientismo penale cerca di rendere più rapida ed efficace la risposta punitiva limitando e sopprimendo garanzie sostanziali e processuali cioè in pratica i diritti fondamentali dell'individuo che rompendo con secoli di barbarie sono stati stabiliti nella tradizione del diritto penale liberale nelle costituzioni dei paesi e nelle convenzioni internazionali quindi in realtà i problemi alla base delle scomposte reazioni efficientiste andrebbero affrontate con ben altri strumenti e soprattutto perseguendo ben altre finalità ma invece il dramma dell'emigrazione viene ad esempio utilizzato come alibi per la messa in discussione di elementari risalenti acquisizioni di civiltà in materia di accoglienza è in atto quindi lo smantellamento dei diritti civili con grandi rischi per la stessa democrazia quanti strappi alle legalità ci tocca di assistere ogni giorno costantemente e mi tornano alla mente le parole di Marco Pannella lì dove vi strage di legalità lì vi sarà strage di vite umane il diritto è politica nell'ordinamento penale vengono formalizzate le scelte della politica altro è l'uso politico del diritto ci si è abituati a immaginare un'alternativa alle garanzie la banalità del male Anna Arendt per farla breve proprio ora proprio qui a chi non l'ha fatto vi chiedo di iscrivervi a questa associazione e da contribuire in prima persona ecco c'è tanto tanto da fare innanzitutto pagare questa sala l'avete già fatto l'ho preparata e spero che tutti si mettano una mano sulla coscienza e l'altra sul portafoglio quello che abbiamo fatto segretario e tesorini lo hanno ben illustrato per le loro rilassioni interduttive ora c'è da lavorare 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 grazie grazie Emilio Marco Vettuca vorrei fare la comunicazione poi abbiamo Laura che ci porta un saluto e potrà parlare un attimo solo Laura e poi c'è Francesco Giunta e Fabrizio Ferrante si tratta del bollettino medico delle condizioni di pannella che come abbiamo detto stamani è stato ricoverato le indagini di laboratori di ieri avevano evidenziato un brusco incremento di azotemia con stabilità della creatinina e il peso specifico delle urine era di 1030 attualmente quando si è stato ricoverato stamani il peso era di 76 e ha perso 9,5 kg in 5 giorni la frequenza cardiaca di 60 W del minuto si conferma l'aggravarsi del già marcato stato di disidratazione la diuresi è stata di 100 cm cubici nella giornata odierna gli esami di laboratorio eseguiti all'ingresso documentano un ulteriore incremento della azotemia con valori stabili della creatinina e degli altri parami ha eseguito un electrocardiogramma che ha evidenzato segni di sofferenza ischemica miocardica insieme dei dati clinici e laboratoristici depone per un quadro di insufficienza renale acuta secondaria alla disidratazione e all'ipotensione di ischemia miocardica acuta le attuali condizioni sono destinate ad aggravarsi rapidamente in mancanza di un'imediata ripresa dell'idratazione che comportano rischi elevati di complicazioni di complicazioni ulteriori anche rimediabili questo ha detto il professor Santini io non so se lo sciopero la soluzione lo sciopero della fame possa equivalere anche a del flevo perché in effetti mi pare che questa condizione sia comunque presa al volo ma abbastanza grave ancora ok Laura io sono Laura e sono responsabile per i diritti umani del gruppo Everyone che è una ONG che si occupa proprio della tutela dei diritti civili umani e quindi mi pare che questo sia il luogo più adatto per venire a scurre le varie situazioni che riguardano i Rom in particolar modo anche per quanto riguarda la questione carceraria perché i Rom sono una di quelle minoranze che sono più diciamo arrestate anche dal punto di vista carcerario e vengono anche a incrementare il problema del problema della sovrappopolazione carceraria visto che poi molto spesso i reati per cui vengono arrestati sono di tipo protestuoso uno dei reati per cui vengono arrestati carcerati e tenuti in carcere senza neanche l'applicazione di misure alternative è lo sfruttamento di minore lo sfruttamento di minore che avviene attraverso semplicemente la constatazione del fatto che queste persone escono vanno in strada a chiedere le nemosine in compagnia dei loro figli ora se questo può essere considerato un reato è un reato ma è un reato che viene utilizzato apposta per poter reprimere questa minoranza che non ha altra alternativa spesso se non quella di chiedere le nemosine oltretutto noi sappiamo essendo noi una ONG che si occupa di questa questione di questa pensazione di questa minoranza di diverse anni sappiamo che poi questi bambini spesso vanno anche a scuola sono abbastanza integrati anche nel contesto e poi magari in pomeriggio così qualche ora magari in radio a questo spasco accompagnano i genitori ma lo fanno anche in modo spontaneo ora io qui non è che voglio fare le faltazioni di questa cosa perché io sono qui a presentare con un progetto per l'integrazione dei romi cioè che serve a dare lavoro a inserire questa comunità che a Napoli è presente in quantità elevata ci sono circa 3.000 romi soltanto a Napoli quindi è importante integrare quindi è una comunità molto merosa rispetto anche a altre città italiane e noi dobbiamo fare di tutto per integrare questa comunità perché oggi in Roma per molti aspetti sono gli ebrei durante la seconda nazifascismo sono perseguitati sono vessati sono ancora ci sono in giro delle leggende medievali che sono diventate delle leggende metropolitane da cui vogliono capiscono i bambini è assurdo e su questa base il tribunale dei minorenni di Napoli ha messo una sentenza motivata per cui una ragazza di nome Angelica Varga condannata sulla base di una testimonianza c'era la madre della bambina la parola della mamma contro la sua senza altre pro tribunale ha messo una sentenza dichiarandola pericolosa socialmente quindi non poteva essere applicata nessuna alternativa nonostante la pena che fosse di quattro anni perché lei era inserita completamente nel quadro di ritenimento della cultura rom cioè il tribunale ha dato credito a una leggenda metropolitana cioè che rom la viscono i bambini ora finché lo fa la signora Concetta si può accettare ma che un tribunale di minorenni metta una sentenza con questa motivazione io sono io non mi sono ripresa ancora io ho avuto un trauma ho avuto un trauma anche perché io sono stata appunto c'è il luogo prima che è legato a quanto è stato il cosiddetto tentativo di rapimento che poi è stato il pretesto per scatenare quei rovi io andai prima perché quando ci fu appunto questa accusa di questo tentato la metta a capire come era perché io non ho mai creduto a questa versione cioè è una cosa organizzata claro c'erano anche noi con lì da Bernardini e altri è una cosa che hanno parlato perché poi perché poi non c'erano ancora non c'erano anche il tribunale questa versione sì il tribunale era condannata per tentato rapimento quindi considera che quando sei minorenne ha uno sconto di vena cioè lei per avere 4 anni sembra che è stata condannata una vena altissima in un ambito diciamo che poteva andare dai 4 a 10 anni lei aveva preso 9 anni scontata cioè l'hanno condannata al massimo della vena scontata a 4 anni perché la minorenne aveva 16 anni poi non l'hanno fatta uscire perché ci sono state anche persone che si sono offerte per darle una limona per fare per una tenenza non l'hanno fatta uscire perché l'hanno pensata è pericolosa pericolosa cioè perché lei era rom cioè assurdo questo è giuro perché era rom se hai a disposizione questa sentenza con gli opportuni omissississimamente per la parola se magari la passiamo a me si può dire perché lei ha rilasciato l'intervista a Alessio Viscardi lei adesso è maggiorenne ha scontato la pena è uscita due mesi fa quindi non bisogna più cioè si può benissimo dire chi è nome con nome con tutte le situazioni la sentenza se la posso recuperare la posso recuperare ora chiaramente è un circolo vizioso questa situazione di Roma perché se io non lavoro sono costretta ad andare a fare le mosse se ho dei bambini il bambino ok nel lui perché comunque perché è un'altra cosa sui tanti semi di lui e poi quando è successa una cosa gravissima nel 2007 c'è il rocco di Livorno dove sono morti due bambini i genitori di questi bambini morti sono stati condannati per abbandono di minore cioè questi oltre che hanno avuto il lutto dei bambini morti in questo incendio anche lì probabilmente dolorose loro sono stati condannati per abbandono di minore ma probabilmente era una baracca e loro stavano in una baracca di pianco quindi cioè non è che le hanno perché era proprio una situazione contingente che è un'altra cosa 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 quindi questi bambini morti i genitori si hanno fatteggiato per abbandono di minore sono tre i malini e ciao e ragazzi non lo sa allora un circolo vizioso se io sono popolare sono nella baracca se fumo una cigaretta si incendia la baracca se si incendia la baracca non mi dimettigli poi vengo contannata pure ad abbandono di minore quindi la cosa fondamentale è integrare questa comunità ora io ho notato una grossa disponibilità da parte dell'amministrazione cittadina che mi ha contattata io sono stata contattata dall'assessore d'angelo sulla base di un progetto che riguarda il recupero la raccolta di imparenziate il recupero e l'utilizzo dei vestiti degli abbi chiusati che saranno raccolti attraverso il sistema chiaramente ci saranno dei furgoncini cioè noi abbiamo pensato di recuperare il vecchio come si vede il samaro dello staccimento quindi questa raccolta sarà fatta attraverso un porta a porta attraverso dei furgoncini che prenderanno questi abbi che poi subiranno un lavaggio saranno chiaramente lavati puliti saranno decorati saranno riadattati perché bisogna anche fare un discorso di recupero di smaltimento degli abbi tra l'altro io non sapevo che gli abbi usati sono considerati di più speciali perché contengono fibre sintetiche e coloranti questo che significa che il comune di Napoli deve pagare deve mandare questi abbi fuori regione e deve pagare i costi per il trasporto fuori regione perché a Napoli non ci sono centri di smaltimento per questi abbi usati quindi questo progetto quando sarà attuato ci auguriamo in tempi rapidi sarà un beneficio anche per la collettività nostra di Napoletano perché ci sarà grosso risparmio per quanto riguarda queste spese di trasporto che non ci saranno perché gli abbi che resteranno qui saranno trattati qui e saranno anche venduti perché noi abbiamo creato un marchio Napoli Street Fashion questo marchio che cosa significa? non è che l'abbiamo distrutto cioè noi l'abbiamo creato ma lo doniamo l'abbiamo donato il copyright al comune di Napoli il quale si arricchisce perché se un altro comune ha la stessa idea cioè che vuole utilizzare questo stesso sistema che abbiamo proposto deve pagare al comune di Napoli il copyright per utilizzare questa stessa questa stessa formula diciamo di integrazione e anche di smaltimento dei rifiuti che altro che volevo dire se puoi concludere perché siamo a tre minuti e abbiamo la tutta questo progetto è stato approvato mi auguro che venga realizzato in tempi rapidi che vada tutto bene perché stare cioè avere 3.000 rom che vanno in giro senza avere una sede che stanno nei rifiuti e negli esitamenti 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 ognuno si augura a vedere che stiano meglio anche per questi bambini perché sono la maggioranza assoluta i minorenni nella comunità rom penso che a chiunque viene spontaneo e sentisse automaticamente meglio pensando a un'integrazione dei rom grazie grazie a te benvennero questi progetti quando poi hanno dei legami con le culture tradizionali anche perché altrimenti le alternative sono quelle come quelle che abbiamo visto a Castellammare dove si mettono le microordinanze con le multe da centinaia e centinaia di euro per chi va a mettere le mani in un cassonetto insomma quindi ecco però ovviamente noi sappiamo che ci sono fondi ingenti della comunità europea il fondo sociale eccetera che sono da utilizzare per dare un'abitazione per dare un'interazione a queste persone che vengono utilizzate male e quindi insomma cerchiamo di lavorare insieme anche per chiedere alle istituzioni che questi progetti si certo allora chi c'è Claudio Scaldafetti si iniziamo il nostro amico Claudio vabbè non c'è bisogno che ve lo presentiamo anzi mentre arriva vi dico che mai da poco ha il termine per la presentazione delle mozioni generali io non so se c'è questa qui che è stata consegnata in cartellina non ci sono le firme quindi qualcuno la deve filmare e la deve presentare entro 25 minuti al tavolo della presidenza chiunque abbia intenzione di presentare ovviamente una mozione generale e è arrivata la mozione particolare di Franco Levi per ora al tavolo della presidenza Claudio Scaldafetti congresso bellissimo per me perché da tanti spunti di riflessione di riflessione che permette che permette di collegare diversi aspetti e anche a mio avviso di avere contezza poi del passato in parte richiamato anche dall'intervento del senatore Perluca questa mattina io proprio in rapporto a questo volevo come dire arracciarmi a una a quanto ha detto Mario Monti qualche giorno fa in pari tanti giorni fa oppure in una sua conferenza stampa il rapporto alla interconnessione del sistema economico e per fatto che poi ci siano tutti quanti interdipendenti io questa interdipendenza trasversale l'ho colta appunto nei lavori di questo bellissimo congresso e negli spunti e nell'opportunità di riflessione che i diversi interventi hanno dato e continuano a dare e voglio fare due richiami per esempio alcuni interventi di Delia e di Perduca in rapporto poi a tante dichiarazioni che esaltano la difesa della vita in ogni modo comunque di ogni caso e che viceversa mancano quella ricerca che storicamente a mio avviso la storia politica di Pannella che è stato questa mattina appunto richiamato come una presenza forse top indadente all'interno del partito a mio avviso viceversa chiaramente esplicitato che è avuto soltanto un incarico ad Ostia non ha mai al di là della rappresentanza a seguito delle elezioni non ha mai ricoperto appunto i ingalli istituzionali prileggendo quindi la ricerca della partecipazione e di quella trasversalità che in alti termini in altre formiche di Vesta Monti aveva richiamato qualche giorno fa allora condannati preventivi come lo si può anche adattare a mio avviso lo si può riportare anche che quello che secondo me è la generazione di questo mondo di questo occidente che sembra non riuscire a trovare una quadra una direzione anche e soprattutto a livello storico per me i condannati preventivi possono essere le figure per esempio di John Fitzgerald di Aldo Moro di Giovanni Falcone dei malati e delle delle scientifiche che ancora non riesce a curare malattie appunto ancora incurate fino ad arrivare appunto ai detenuti cioè condannati preventivi e praticamente quelle stagioni che Kennedy in un modo Moro in un altro modo magari uno avendo le tue opinioni e pensando che stessero spagliando non di poco ma anche di molto comunque hanno visto la risposta mi rilaccio appunto all'idea di vita programmata in ogni dove in ogni come ogni giorno sui mezzi di comunicazione e quant'altro hanno avuto la risposta della morte Kennedy Bob Kennedy Martin Luther King Alba Moro Giovanni Falcone Paolo Borsellino le malattie incurabili che non riescono a trovare una cura e anzi che aumentano per l'inquinamento per il modello di sviluppo che storicamente appunto per me quell'assenza di impatto e di ricerca ha creato e i detenuti i detenuti con dati preventivi perché i 186 decessi del 2011 e i 66 suicidi siamo nella stessa media del 2012 nonostante tutta la mobilizzazione di quasi due anni di lotta non violenta e appunto adesso il comunicato sulle condizioni di Pannella che ancora una volta è stato ha fatto uno scioppo della sete io ho fatto quattro giorni scioppo della sete al 19-22 ho fatto altri tre per la risoluzione e per il diritto di voto e detenuti e volevo come dire concludere le cose come poi questa scia di risposta appunto con la morte mentre dall'altra parte in ogni modo si riprendere la vita i valori che devono difendere la vita la vita la vita la vita in ogni modo Pannella aveva fatto 91 giorni scioppo della fame su quattro obiettivi basta che erano che erano le carceri che erano le bombe di formazione di massa per la Siria e le bombe di formazione di massa per la Libia e anche lì la guerra ha avuto la risposta come morte appunto non come vita Gheddafi in altri versi di Pan Hussein in Iraq e adesso che ho letto proprio i palestieri l'Unione Europea che in rapporto all'introsione possibile per il governo siriano ha detto adesso forse noi dobbiamo intervenire appunto e poi intervenire adesso perché ci sono altre condizioni ma non ce n'erano altre perché storicamente non si riesce ad aprire un dibattito o un confronto che pone viceversa i temi della vita e della morte non del bene e del male come giustamente Delia ha posto il suo intervento all'interno di un'altra ricerca allora voglio finire il mio intervento con richiamando la parte generale del mio commento all'ultimo libro di Paolo Barnard nel quale io ho detto ho entrato inferiori rispetto alle uscite parlando appunto di termini economici dei bilanci e gli stati che sono al centro di questa crisi economica finanziaria l'Europa ce la fa non ce la fa eccetera eccetera o diciamo per il momento anche interessi altri di remunerazione dei prestiti richiesti quali entrate quali uscite quali interessi quali prestiti le regole mi indicano dove la causa dicendomi chiaramente che a differenza di quanto avremo oggi non è un problema di zone politico e quindi di identità ma di sbagli fatti o per esempio di decisori non prese o di cattiva gestione regole che in sé significano continue risposte trasparenti e della luce del sole e che portano la quantificazione di qui sopra nella potenzialità di una ricchezza nascosta che la non pratica della democrazia come ricerca e la forma della partecipazione ha tenuto appunto in quello stato la messa a bilancio a questo punto in tutti gli altri bilanci in tutti gli altri paesi più o meno direttamente collegati con il mio sulla base delle scelte dal mio fatto dal mio fatto vanno così a contabilizzare la mia povertà o la mia ricchezza perché a tutti gli effetti povertà ricchezza dell'intera umanità questo perché perché oggi benessere l'economia è diventata la priorità della eliminazione dell'acro della eliminazione del problema e non viceversa di un benessere che nell'altro per un recupero appunto storico come la nostra mobilitazione di ogni fronte quindi la nostra presenza come soggetto del partito di Cagli non volendo fantasciare dal partito ci dice del viceversa vedere in l'altro l'opportunità e una ricchezza a tutto tonto e quindi proprio per questo appunto una ricchezza materiale oggi questa è l'alternativa e ho cercato di dirla e di esplicitarla in questo modo qui cioè ho cercato di parlare della crisi democratica con il rapporto alla eliminazione che è prima di tutto una eliminazione di storica e di possibilità di ricercare i momenti salienti attorno ai quali appunto l'eliminazione e la morte ha vinto sul confronto indipendentemente poi dalla giustezza delle posizioni che proprio l'impossibilità di poter trattare hanno fatto sì che la lacerazione diventasse poi il cuscinetto del quale poi noi abbiamo rappresentato e rappresentiamo l'area alternativa grazie Alessandro Romano Alessandro non stiamo vedendo più la biblioteca dici di spiegare Romano è un punto basso lo stiamo meglio no innanzitutto vabbè questa notizia di Marco che sta in condizioni insomma non proprio felici in questo momento insomma ha gettato un po' un po' di tristezza comunque noi voglio cominciare con ringraziare con ringraziare l'associazione l'associazione sono tutti sui vertici se lo meritano se lo meritano perché nonostante voi sapete che io non sono d'accordo di tutto ma è davvero Rodolfo Vici Roberto tesoriere che ha continuato anche insomma l'incarico di Mariangela e quindi no è giusto che io li ringrazi e io volevo insomma portare sempre le mie note un po' critiche un po' che da un po' di anni insomma mi creano un po' di attrito con i radicali però sempre insomma un attrito contenuto e devo dire che la notizia di ieri che forse ci presenteremo con la rosa del pugno insomma un po' aggravato dal mio punto di vista insomma questo attrito davvero sono molto perpresso su questa ripetizione di riprendere la rosa del pugno io le mie note critiche le ho sempre espresse durante l'anno anche se non sono stato molto presente quindi voi sapete che dal tema dell'amnistia che condivido in pieno però condivido in pieno soprattutto come mezzo supremo per raggiungere la riforma della giustizia è mai come fine mai come fine per quanto è una riforma si è strutturale tocca la struttura ma non è nel senso che la modifica quindi si possono inventare varie filosofie sopra ma rimane questo indiscutibile e poi quest'anno sempre a livello di radicali italiani mi ha colpito anche il finanziamento pubblico e me tradizionalmente noi siamo stati contro il finanziamento pubblico in tutte le sue varianti e invece quest'anno ho visto che insomma si è fatto un discorso un po' più arretrato parlato dell'uso corretto del rinforzo elettorale e secondo me insomma questa è una posizione che va bene degli urecondito ma noi siamo infatti del dell'entitore contento e quindi non penso che fermarsi cioè semplicemente fare una critica a come si spendono i bilanci perché poi non ho capito chi debba stabilire la giustizia no no vorrei che si fosse confuso nel sapere la nostra posizione va bene va bene se ovviamente ovviamente se io sto sbagliando insomma non è che non riferete diceva questo no no non arrivo tanto vabbè ma non voglio buttare su scettibilità me sei andato di sentire più volte di insomma di insistere su questa supposta onestà delle spese ricevute come come rimborso elettorale secondo me è insufficiente comunque bisognerebbe insistere invece sul fatto che nessuna nessuna di finanziamento pubblico solo quello privato magari con delle modalità con delle correzioni non lo sento più e poi secondo me il punto più più problematico è il fattore economico e io dire perché per me insomma a livello politico è molto questione economica non bastano le lacrime e il sangue che ho sentito prima la passione insomma è molto questione rompere noi noi siamo per ci apprezziamo a queste prossime elezioni non si sa in che modo ci presenteremo per me il massimo del negativo sarebbe proprio ripresentarci come rosa del pugno comunque per quanto riguarda proprio il fattore economico che noi sappiamo io personalmente non so il nostro bilancio sul monte la nostra attuale posizione su come portare avanti la diminuzione del debito pubblico e come la nostra posizione su insomma su questa grande questione cioè adesso il welfare state insomma è un tema fortemente legato ai diritti anche quelli più semplici dobbiamo capire se può essere considerata o no una variabile indipendente cioè il welfare insomma è probabilmente dovremmo renderci all'idea che sia un welfare che è legato al ciclo economico e quindi trattarlo come dà quindi accettare riforme riforme drastiche che poi si possono coniugare con l'austerity alla monti o viceversa con 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 forme diverse è bene che lo sia espliciti e poi veniamo più all'associazione nostra io secondo me tutte queste carenze che ci portiamo un po' dietro da un po' di tempo poi la nostra associazione a livello locale siamo col sindaco di Napoli siamo molto aperti per quanto riguarda le nostre posizioni antiproibizioniste i diritti degli omosessuali però questo sindaco di Napoli insomma è anche è anche quello di una feroce cultura diciamo per capirci è ferocemente anticapitalistica cioè lui ci presenta questo programma dei beni comuni che va bene va benissimo però sotto questo ombrello di un municipalismo statale sprenato insomma è qualcosa di importante insomma da discutere pianeticamente insomma però sembra che non abbiamo più le armi per poterlo fare e poi cosa è la giustizia se ammestia probabilmente anche il sindaco di Napoli insomma che sappiamo essere diciamo iscritto nella categoria dei giustizialisti penso che non sia sordo a quello che sta accadendo nelle carceri e quindi potrebbe addirittura come dire dialogare con noi in maniera proficua però è anche il sindaco che sta facendo le viste con ingrozza e che rappresenta l'antitesi non del nostro progetto di amnistia ma di quello che io credo che sia una riforma desiderata della radicale e che pure sembra che le nostre anni si siano un po' spuntate insomma vabbè non voglio non voglio prolungare io penso che insomma se andremo con la rosa del pugno se veramente diventerà concreta questa proposta tutte queste mie come dire paure queste mie sottigliezze che magari magari un po' immodestamente ho presentato possano solidificarsi possono diventare davvero come dire punti che resteranno così e non verranno risolte insomma vabbè in questi casi qua amici Marco Rodolfo Luigi però è meglio essere sincero in questo momento mi trovo un po' al disagio e va bene concludiamo qui voglio dire che una cosa no perché se no vabbè no no vabbè l'interlocuzione non lasciamo dopo dopo ci parliamo si sa che l'esterno è l'unico che piecchia le domande quindi attenzione una sola veloce posso chiederti che adesso poi che erano sono diventate anche un spagnante magari bravo bravo vabbè non c'era solo una battuta una bella battuta bravo no era un leggo una battuta ho sentito il nome Paolo guardate da Claudio ti prego bel discorso ma non Paolo guardate va bene grazie Alessandro tu hai visto a questa assemblea Luigi compagno Alfonso Papri l'amico De Verdi Giselle eccetera e abbiamo iscritti in associazione che fanno riferimento a questi partiti per quanto nella nostra io sai quanto sono vicino alle posizioni liberali liberiste fino a prova contraria noi siamo un movimento politico siamo riconosciuti da un movimento politico liberale libertà no si sta sempre e il problema è che magari mancano quelle forze militanti che possono imporre poi all'interno del movimento certe posizioni ti chiedo sempre infatti ogni volta che insomma ci dà la possibilità di battere queste cose politiche la mia offerta di temo responsabile di una persona che segue le missioni sull'economia rispetto anche alla città quello che sarebbe un contributo molto importante perché poi manca Napoli in un'ottica del genere e credo che ci sia anche lo spazio politico per affrontare certi temi io spero che quest'anno prossimo a prescindere dalla rosa del pugno quello sarà comunque un passaggio elettorale ma l'associazione radicale della candidata comunque cerchiamo di dare il suo contributo abbiamo Francesco Giunta buonasera a tutti sarò il più contenuto possibile e il più breve possibile i ringraziamenti al gruppo chiamiamolo dirigente napoletano dell'associazione per la grande Napoli li ha fatti già l'Alessandro quindi ed anche le critiche a ringraziamenti e da critiche io come dire mi associo senza ripeterle e senza effettuare dei distinguo che pure sarebbero opportuni o comunque delle precisazioni ma sì certamente il tema economico il tema politico economico è un argomento che come dire è ingiustificatamente assente detto questo io voglio dirvi oggi si inaugura qui a Napoli il circolo napoletano di Nessuno Tocchigaino io mi sono iscritto e vorrei dare un attimo pressivamente conto di questa iscrizione richiamando un nome che secondo me un legame ce l'ha ed è un nome che come dire non sento pronunciare da parecchio ed è quello di Antonio Russo secondo me le tematiche e l'orizzonte diciamo di Nessuno Tocchigaino ha un legame di apertura internazionale ma anche concreto con la vicenda di Antonio Russo e quindi voglio dire con la Russia con il terrorismo la pena di morte e la battaglia per la pena di morte è molto legata a queste a queste tematiche ma poi Antonio Russo Antonio Russo non dimentichiamolo è uno che concretamente ha fatto delle cose ha fatto delle cose come giornalista come giornalista di guerra concrete reali ed effettive ed è quello che ecco la mia critica differenziatrice ed è quello che un po' vedo mancare nei nostri nei nostri discorsi e nei nostri dibattiti cioè la concretezza e l'incisività nei tentativi insomma di cambiare di cambiare la realtà che cosa voglio dire stamattina durante il corso del dibattito si è parlato di sovraffollamento misure alternative decreto salvacarceri detenzione domiciliare ma il punto fondamentale però che non è stato toccato è uno che su tutte queste materie su tutte queste questioni decide il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza cioè sono sempre e soltanto i giudici che decidono anche della delicata questione dell'esecuzione della pena ora il discorso è questo fino a che esisteranno i tribunali di sorveglianza possiamo inserire tutte le misure alternative che vogliamo ma il problema non sarà mai risolto perché quello che avviene nei tribunali di sorveglianza è un automatismo che non ha nulla a che fare con la realtà concreta carceraria quindi la mia proposta che dovrebbe concretizzarsi in un disegno di legge è quello per l'abolizione dei tribunali di sorveglianza di tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena devono occuparsi le amministrazioni penitenziarie e quello è il luogo perché è lì che c'è il contatto diretto con il detenuto e con la realtà carceraria quindi è l'amministrazione penitenziaria che con i suoi esperti gli scienziati i medici deve decidere se quel determinato soggetto ha diritto può accedere alla misura attentativa alla detenzione ai permessi premio e a tutta questa disciplina che è molto molto complicata dico anche questo perché queste tematiche non possono essere continuate a lasciare al giudiziarismo e al formalismo giuridico l'amministrazione penitenziaria è il luogo in cui si svolge la vita di questi soggetti e quello è il luogo in cui questi soggetti devono essere giudicati e poi ancora deve tornare alla politica alla politica in questo senso all'amministrazione penitenziaria anche tutta la disciplina è la materia dell'esecuzione della pena non può continuare ad essere materia della giurisdizione e dei giudici anche perché vabbè poi qualche altra volta mi spiegherò come funziona con i tribunali di sorveglianza ma in realtà tutto quello che accade lì sono una serie di automatismi che non hanno nulla assolutamente nulla a che fare con la realtà e di primi a saperlo sono sostanzialmente i detenuti sono i soggetti che come dire a cui più interessa il problema dell'esecuzione delle pena quindi io dico prima cosa io solleciterei come dire un'indagine di uno studio concreto sul problema dell'esecuzione sul problema dell'esecuzione carceraria e sulla possibilità di effettuare un disegno di legge per abolire i tribunali di sorveglianza e la magistratura di sorveglianza e ancora altro problema collegato le difese d'ufficio sulle difese d'ufficio io ho sentito sento sempre dice eh ma i difensori d'ufficio non vanno in carcere a fare le visite ai carcerati è vero verissimo ma perché accade questo accade questo perché esiste un database nazionale attraverso cui vengono scelti singolarmente i difensori d'ufficio ora il difensore d'ufficio non ha alcun interesse concreto né morale né effettivo ad effettuare l'attività difensiva come si dovrebbe anche qui guardate e vado alla critica fino a che continua ad essere presente lo Stato con questi meccanismi assolutamente impersonali questi problemi non si risolvono quindi la mia seconda proposta è almeno per quanto riguarda la materia delle difese d'ufficio ma perché non liberalizzare questo settore e ad esempio non consentire che ne so alla Chiesa Cattolica alle associazioni musulmani alle associazioni che si occupano di immigrati ti dire va bene ma noi li paghiamo noi i difensori d'ufficio per svolgere queste attività quindi lasciamo stare il rimborso dello Stato stipendiamo noi i nostri avvocati e facciamo difendere queste persone vedrete che questi difensori andranno in carcere a fare le visite e seguiranno nel modo più adeguato i loro assistiti ultima cosa vorrei dirlo sulla prescrizione sulla prescrizione e sulla munizia si continua a fare sempre un uso improprio e concettualmente poco corretto del termine prescrizione prescrizione assolutamente non significa amministia strisciante non lo significa e non lo è e non è neanche un'amministia impropria l'amministia è una cosa la prescrizione è un'altra identificarlo è rozzo perché che cosa succede? succede che se come ha sottolineato bene prima il senatore Verduca si arriverà ad avere la discrezionalità dell'azione penale chi dice che la prescrizione è un'amministia strisciante poi cosa dirà che i pubblici ministeri che avranno la discrezionalità dell'azione penale esercitando discrezionalmente l'azione penale faranno un'amministia strisciante sceglieranno di perseguire certi reati ed altri no quindi un affinamento su questi discorsi vale ed è importante come anche il fatto che si continui a dire è ma della prescrizione beneficiano solamente i ricchi e coloro che possono pagarsi degli avvocati come dire particolarmente principi del fuoco non è vero cioè io vorrei allora su questo facciamo un'indagine sociologico statistico giuridica e vediamo chi sono i soggetti che hanno nel tempo beneficiato della prescrizione che ne sono nell'arco di due anni vedremo che il 95% dei soggetti che hanno beneficiato della prescrizione sono soggetti assolutamente normali quindi anche questa utilizzazione ideologica della prescrizione attenzione 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 l'ultimo punto che voglio toccare Antonio Ingroia e Luigi De Magistris io e sempre mi ricollego al discorso sull'azione penale non sento nessuno e questo è un punto politico di dire ma vogliamo difendere da radicali Antonio Ingroia e Luigi De Magistris per aiutarli ad essere coerenti con se stessi perché quel che loro fanno non è assolutamente che sia sbagliato e il metodo è all'interno del sistema e l'utilizzazione ideologica di quel che loro fanno allora aiutiamoli ad essere coerenti e diciamo quel che voi fate è giusto va benissimo ma allora siate coerenti ed accettate la discrezionalità dell'azione penale secondo me è un punto politico da tenere in considerazione no no ma appunto ma appunto ed anche la separazione ed anche la separazione no ma cioè voglio dire è arbitrio oggi ma in sostanza loro oggi che cosa fanno? fanno di fatto qualcosa che non è consentito e lo fanno tutti tutti di fatto ma quel farlo di fatto voglio dire è giusto è quello che bisognerebbe arrivare a normativizzare separazione delle carriere discrezionalità dell'azione penale allora io non mi scandalizzo che ingroio di Magistris faccia un'attività politica che ingroia la trattativa stata mafia va benissimo ma facciamogli riconoscere riconosciamo che stai svolgendo un'attività di carattere politico perché la giurisdizione e l'accusa penale guardate sono politiche allora come dire aiutiamo politicamente Antonio Ingroia ad essere coerente con se stesso Antonio Ingroia è tutta la parte della sinistra che gli è dietro perché poi guardate ci sono il concludo su questo ci sono intellettuali di sinistra e fini giuristi che questo l'hanno capito molto bene e l'hanno scritto e hanno sempre detto state attenti con i patteggiamenti state attenti con il vito appremiato che poi così aprite il banco alla discrezionalità dell'azione penale cosa che noi assolutamente non vogliamo quindi un maggior approfondimento su questi temi per il resto concludo e vi saluto la prossima grazie Francesco come vedete noi ci stiamo portando avanti perché no veramente non lo dico spazzate è che oltre a tutto il dialogo che abbiamo avuto con le famiglie e le problematiche delle carceri è bello avere una sensibilità intorno alla riforma della giustizia sembra vivere di altri tempi a Napoli quando prima oggi si è parlato di Tortola eccetera è bello avere qui tante persone che hanno voglia e danno un contributo per dibattere questa riforma della giustizia che noi aspettiamo in Italia praticamente da sempre perché il problema insomma è allo sfascio già è pronto Patrizio Ferrante arrabbiato perché no no perché ti vede manzioso di parlare allora no Patrizio Ferrante che ha voglia di parlare e già sta lì sul pollo non voglio impressionare la platea anche perché oggi non credo neanche gli anni che ne vogliono tutta questa voglia nel senso che voglio restare su terri molto terra terra anche di quelli che sono stati toccati dagli compagni che mi hanno preceduto devo dire che mi sarebbe piaciuto questo già ne ho discusso prima con Francesco che mi ha preceduto al podio devo dire solo questo che è una critica che faccio anche in parte a me stesso perché da quest'anno per me è stato un anno che poi magari ci arrivo dopo in cui comunque ha partecipato molto e ho credito di aver contribuito anche all'organizzazione di questa giornata però il corso in odo e poi devo dire che probabilmente sarebbe stato più opportuno che quello che ha detto adesso Francesco quello che mai l'avrei voluto dire io in maniera anche meno competente perché non sono un operatore della giustizia come lui o quello che hanno detto anche altri compagni intervinuti precedentemente anche diversamente da Francesco sarebbe stato interessante dirlo davanti agli importanti ospiti che abbiamo avuto stamattina in una riproposizione di quello che è stato anche un po' la giornata dello scorso anno che secondo me rappresenta una formula forse più vincente rispetto a quella che abbiamo trovato quest'anno perché lo scorso anno c'è fu un'interruzione fra i militanti e gli ospiti che erano di più parlavano però di meno indiferente rispetto a quest'anno dove invece secondo me c'è stata una sorta di autoreferenzialità di vetrina che si è preso chi è intervenuto dicendo anche delle cose fortemente sbagliate in un caso particolare tutti pensano la vita delle gambe a chi mi riferisco cioè non è possibile che qui vengano in casa radicale senza sapere una mazza scusate di un francesismo della vita radicale e della dinamica interna del nostro movimento la figura di Marco Pannella anche perché tra l'altro io negli ultimi giorni io non è voglio io non sono mai stato cioè sì mi sono sempre definito pannelliano ma forse in maniera superiore a quanto non lo sia mai realmente stato però parliamo solo degli ultimi giorni in casa radicale il genio della politica Emma Bonino che è un genio della politica indubbiamente ha fatto una cosa ha detto una cosa al congresso per poi smentirsi meno di un mese dopo o poco più di un mese dopo ma andando di fatto a spiazzando un po' tanti militanti che avevano pensato che quel congresso così come si era concluso a Roma ok non avrebbe determinato delle grosse svolte dei grossi salti in avanti ma avrebbe comunque quanto meno tenuto la barra dritta nel momento politico in cui volendo ci può anche essere spazio per un ritorno a un voto radicale un po' meno di micchia rispetto a quello che è stato nelle ultime tornate elettorali bene se non ci fosse stato Marco Pannella ieri con la sua geniale 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 ipotesi di ritrovare quel grande simbolo che si chiama Rosa del Puglio che è l'ultimo dei responsabili del fallimento dell'esperienza pregressa l'ultimo responsabile del fallimento della Rosa del Puglio alle scorse elezioni non tanto alle scorse elezioni come numeri ma come durata poi effettiva a termine di quella breve esperienza del governo è stata di tutto di tutti anche magari nostra io credo di Noa ma magari mettiamocelo anche il dubbio ma di certo non perché la gente non si riconoscesse più in quel simbolo o magari poi dovremmo anche ricordarci dell'accordo con Beltroni con Di Pietro che aveva il simbolo che non lo avevamo però non voglio tornare neanche troppo indietro sennò vado fuori da quello che volevo dire in questa giornata congressuale c'è stato fondamentalmente e in questo anno politico radicale a Napoli c'è stato un grande vincitore e un grande sconfitto che sono secondo me la stessa persona e cioè il nostro segretario e mi spiace non c'è che sono qua però vabbè magari ascolterà il nostro segretario Luigi Mazzotta persona come tanti altri in questa situazione che ho incontrato meravigliosa l'Uria dei Casperi di Ageria prima umanamente poi politicamente potrei dire lo stesso di Roberto di Giuseppe di Rodolfo di Aldo di Emilio di Paolo ma insomma un paio va a fine che non cito qualcuno e può sembrare scortese proprio davvero la voglio generalizzare perlomeno a quei compagni che in quest'anno ho visto più di altri perché ma non mi piace neanche il fatto di venire ad ascoltare quei critiche tutti possono parlare tutti possono ridicare io ho visto più volte quest'anno Marco Pertuca che non delle persone che sono qua in questa sala dall'anno scorso a oggi è un capitolo ma non va bene allora cos'altro volevo dire perché Luigi Mazzotta è un vincitore ed è anche un grandissimo sconfitto di quest'anno politico perché Luigi Mazzotta con la sua iniziativa sull'amnistia di cui ha parlato perfino è da Adriano Sofri Luigi Mazzotta martedì i giorni scorsi era ancora per la settantesima volta circa dall'alba a Pugio Reale insieme a Rangela insieme a Paola La Peluta a fare volantinaggio come abbiamo fatto anche noi in altri momenti nella nostra città io Emilio Roberto e Rodolfo in particolare magari dimentico qualcuno perché prima non voglio fare calcolo però la mia domanda è questa l'anno scorso l'anno scorso che non c'era manco il governo tecnico da cui ti potevi aspettare qualcosa in vano ma l'anno scorso o forse già c'era da poco forse in effetti già si era inserato da poco mi corretto forse non so adesso magari mi confondo però comunque l'anno scorso c'era più gente l'anno scorso c'erano più parenti di detenuti ma è possibile che i parenti dei detenuti non sono qui oggi io ne vedo tre e tutte quelle centinaia di persone allora con il tuo di spiegare una cosa e lo dico ai parenti e ai detenuti che mi ascoltano attraverso la radio radicale io sono Fabrizio Fernand il radicale libero su facebook un sacco di voi mi viene a chiedere oh ma la fanno la mistira la danno la esce non esce io che vi devo dire io vi dico sempre la stessa cosa che vi continuerò a dire ancora noi ci proviamo ma oggi c'è qua un operatore credo della televisione pubblica ha fatto una ripresa della stanza ha visto la stanza mezza nuota ma ne manca una stanza grande ma che credibilità può avere più agli occhi di chi non è radicale di chi non conosce le questioni delle carceri la nostra lotta per la mistira allora Luigi Mazzotta è stato sconfitto è stato sconfitto dai suoi stessi dai suoi stessi quelli che lui definisce i miei parenti i miei parenti e allora i militanti per strada non vengono non vengono e poi non facciamo schifo non sbagliamo e cosa e i parenti che viene venuti non vengono e poi dicono ma va a fanculo radicali se più guarda gli altri la missione uscita dove sta lui? allora io questo voglio dire e infine una cosa torno sulla rosa nel pugno e chiudo io sono un grande fautore della rosa nel pugno l'ho detto lo dico da mesi e l'ho detto anche pochi minuti fa però a me stamattina dopo aver ascoltato gli interventi dell'ottimo Peppe De Mistofaro che è una persona stimabilissima lo conosco da prima di oggi è uno che fa il suo mestiere cioè in senso che fa l'attività politica di quell'area su molte cose anche molto distanti da noi ha fatto un intervento che ho apprezzato per la sua resta intellettuale quanto è uno che crede realmente in quello che diceva quindi io sarei felice di dialogare con De Mistofaro e con il suo movimento per quanto so che su alcune cose non la pensiamo allo stesso modo però mi ha veramente sconvolto l'intervento di Borrelli lo dico chiaramente e quindi non so se magari quell'ambientalista che è contenuto il nostro simbolo chi deve essere perché se è quello lo dico senza polemica perché sarà anche un ottimo ambientalista ma non ci conosce e se qualcuno non ci conosce non vedo come possa fare un pezzo di stato con lui prima ci conosca e poi al limite può sparare dei giudizi perché non sparere mai dei giudizi di cui il superquale lo scadio non essendo mai stato all'interno dei venti e qui ci vado ringrazio scusate rosario rosario scogliano buonasera diciamo che voglio per un attimo abbandonare gli eroici giustissimi d'altronde semplicemente ponendo al segretario dei veri di Bordelli in caso ho dato un consiglio semplicemente per quello che ha detto stamattina leggere il comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione la rieducazione del soggetto e qui attivo poi al discorso sull'amnistia che per me deve avere un forte senso transnazionale e voglio abbandonare diciamo i numeri e anche i racconti che sono stati ampiamente fatti durante la mattinata per andare un attimo sulla questione prettamente culturale e giustenalistica in Italia è inutile dirlo lo disse anche Emma Bonino dopo gli anni 70 e gli anni 80 abbiamo vissuto un calo culturale e sociale in Italia questo calo ovviamente ne ha risentito principalmente sulla tristinenza perché c'è una differenziazione che i giustenalisti fanno tra cultura del penale e cultura giuridico penalistica europea la cultura del penale il fiato breve è quella che maschera con l'ordine sociale la repressione quella che identifica gli articoli del codice non come regola di condotta ma come regola repressiva atta ad essere un deterrente nei confronti del 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 reato quella stessa cultura del penale è diciamo restata anche in quel periodo in cui si è formato il nostro codice penale che è ancora fondato sulla struttura anzi è ancora il codice rocco quello attuato con il decreto del 33 se non vado del dato la cultura giuridico penalistica europea quella antagonista della cultura del penale è quella che affonda le sue radici nella storicità e dico io che chi non sta nella storicità ovviamente è sempre un passo indietro perché solo chi sta nella storicità è un guardando a quelli che sono stati i movimenti di prima e mi riferisco all'umanesimo giuridico all'illuminismo giuridico che ha visto Napoli il centro dell'illuminismo giuridico sta un passo in avanti sta un passo in avanti e cerca ed è l'unico movimento che può cercare una rivoluzione una riforma di questo sistema ho citato l'illuminismo giuridico proprio perché nel 15esimo secolo si andò ad attuare la scuola culta la scuola culta era un movimento che andava a criticare i testi antichi cioè quelli che si fondavano sul coltus giustinarei e il professor Grossi che è a quale giudice della corte di castrazione ha riassunto tutto questo principio con una frase bellissima dicendo differendosi ai testi antichi altri non sono che chiodi piantati nel nudo al quale si appende un filo del tutto autonomo rappresentato dall'interpretazione e io penso che questa frase possa essere diciamo presa così per descrivere il nostro codice d'oppo che esige di una riforma io mi ricordo quando apri il codice di penale quando stavo spionato penale l'articolo 17 che parla delle pene c'è ancora scritto tra le pene elencate e la pena di morte per vedere poi sotto che è stata blocata dopo l'entrata in vigore della Costituzione quindi principalmente la lotta per l'amnostia si deve essere gravita della riforma ma è principalmente un movimento culturale per cambiare una cultura penalistica in Italia che è tuttora vigente e mi rifaccio al accadimento di poco tempo fa come per esempio il caso Sallussi è assurdo che in Italia esistano ancora responsabilità oggettive che vadano all'entrata di stampa ora ovviamente l'articolo sicuramente lo si poteva criticare ma sulla responsabilità oggettiva che poi entra nel reato d'opinione che fu abolito da Marco Pandella con uno delle sue disobbedienze civili ed è assurdo che venga riproposto e non solo mi rifaccio alla fragranza di ferita di reato che è un obbio giudico perché io sostanzialmente manca proprio l'ipso iudis del reato di conseguenza ti amico che ci vuole quindi un cambiamento di tratta totale andando ad abbracciare quella cultura giuridico-penalistica europea che è l'unica che può garantire lo stato di diritto è lo stato sociale perché le garanzie poste alla costruzione dello stato sociale significano libertà dignità dell'uomo e democrazia e inoltre solo attuando una riforma sulla base della cultura giuridico-penalistica europea possiamo trovare quel terreno fertile per andare a costruire un sistema penalistico europeo e quindi per questo l'importanza della transnazionalità della lotta all'amnestia possa come una lotta di forma e di rinnovamento proprio culturale antagonista a quella che è la debolezza assurda del trattato di Lisbona dove ci sono un'immensità di lacune giuridiche magari prendendo dalle esperienze di paesi ovviamente europei molto più sviluppati tipo la Norvegia che non hanno abolito cioè per me di non esiste proprio la concezione dell'ergastolo perché proprio rifacendosi il romanesimo giuridico mettendo al centro l'individuo hanno puntato tutto sulla rieducazione neanche a quel ragazzo che commise la strage dell'università hanno la sentenza è stata una sentenza di caccia da vita e hanno dato il massimo che se non sbaglio è di 30 anni per loro 21 esatto perché hanno puntato tutto sulla rieducazione del hanno puntato tutto sulla rieducazione del soggetto e non solo io credo che attuando quindi questa struttura di tradizione più lingua penalistica europea si possa far veramente un grande passo in avanti verso la la grande tradizione che ci ha lasciato al chiedo spinelli gli Stati Uniti d'Europa perché non solo perché perché non solo con una moneta unica o con una banca centrale noi possiamo pensare di creare un'Europa unica ma la possiamo possiamo iniziare a provarci facendolo affondare su dei valori ovviamente comuni rispettando le diverse culture che comunque ci sono e uno di questo può essere una creazione di un sistema penalistico europeo fondato sui dettagli di illuminismo giuditico tanto è vero voglio ricordare le parole di Pasolini che riferendosi all'Italia diceva non popolo arabo non popolo balcanico non popolo antico ma nazione vivente nazione europea grazie 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 d'orsario vai allora a questo punto visto che tra poco il senatore Berluga Marco andrà via ma adesso cercherò di intervenire 5 minuti per dire qualcosa che vi deco importante però prima volevo segnalare che tra 40 minuti dovremmo concludere il dibattito generale e abbiamo ancora 9 persone iscritte a parlare quindi abbiamo ancora un'ora e mezza di persone che dovrebbero parlare se ognuno musa 10 minuti e a questo punto arriveremo alle ore 19 penso che potremmo anche prendercela quest'ora di dibattito generale anche perché rimane però fuori interventi di compagni che abbiamo invitato di intervenire sono qua sono stato tutta la giornata con noi quindi visto che è scaduto il termine per presentare le emozioni mi è arrivata no no ma io già lui mi avevo presentato eccolo qua e Franco lui mi ha preso la maggioranza assoluta delle prime dell'associazione non per niente adesso numero uno ok questa è la emozione particolare è così poi abbiamo arrivato a una emozione generale a prima film a Giuseppe Alterio poi a Fizio Ferrante Roberto Claudio su di Gimazzato Fuori Piani e una raccomandazione della firma di Paolo Preccia che approfitto per salutare perché Paolo Preccia è stato con noi stamattina proprio quando abbiamo organizzato un po' la sala ci ha dato una mano come sempre e però il padre che oggi doveva subire le operazioni quindi è stato con lui in ospedale ha detto che avrebbe cercato di raggiungerci per il finale dei nostri lavori e quindi comunque noi lo salutiamo anzi vi diamo un applauso a Paolo Preccia perché è un applauso esattamente e poi abbiamo anche adesso mi scuso con Stefano perché non ho il tempo di leggere il messaggio che ci ha mandato ma lo pubblicheremo sul sito dell'Associazione per la Grande Napoli ma Stefano Billotti che non è potuto intervenire oggi qua il segretario di Vietro Dolce iscritto all'Associazione per la Grande Napoli ci ha mandato un bel messaggio in cui saluta tutti i compagni lui è napoletano e quindi sarà per un'altra occasione diciamo per stare un po' insieme per scambiare un po' a questo punto ecco io penso se devo già forse l'ho fatto prima ma credo che questo nostro congresso per ora ha visto parlare 22 persone l'esperimento di fare una giornata intera di lavori dedicata alla militante dell'Associazione per allargare il dibattito per diciamo poter esprimere dei concetti che magari durante le riunioni in cui si sta sempre a organizzare l'iniziativa non si possono non c'è tempo per fare c'è l'esigenza secondo me di provare al profondo del dialogo e oggi anche diversi compagni hanno potuto offrire un contributo che andrà sicuramente riascoltato poi grazie anche alla della Vicale ci sta il sito dell'Associazione insomma e credo che sia un consolidamento un approfondimento di cui tutti quanti noi avevamo bisogno perché si sa per chiudere un ciclo importante per la vita dell'Associazione Luigi Mazzotta ha detto che non intende ricandidarsi a segretare voglio ringraziare Luigi per un lavoro che abbiamo fatto davvero l'importante abbiamo davvero sono stati tre anni bellissimi in cui ci abbiamo messo tutto dove chiamiamo perché avevamo un'idea che un movimento politico come il nostro non potesse restare diciamo avviarsi verso un declino che sembra inevitabile almeno a noi sembrava inevitabile visto anche il tipo di accordi elettorali che abbiamo dovuto subire per quanto mi riguarda pur si ho capito che magari era necessario fare quel tipo di accordo politico che abbiamo avuto col PD però un accordo che mi lascia fuori dal Parlamento e ufficializza praticamente la scomparsa politica di persone come Marco Pannella Sergio Delia eccetera credo che l'abbiamo pagato molto quindi c'è la bisogno di una forza militante di qualcuno che tentasse anche di avviare degli esperimenti e noi ne abbiamo fatti tanti le abbiamo fatti sotto le università le abbiamo fatti sotto i licei quest'anno abbiamo avuto un'importante risposta con i 3.000 erano quasi tutti i ragazzi dei liceo genovesi filagieri a liceo Umberto ci hanno invitato due volte a fare delle assemblee liceo Umberto è un che è tirato che conosce il prestigio di questo luogo ebbene ci hanno invitato a partecipare a due assemblee studentiche una sul tema dell'amministia e una sul tema della legalizzazione delle droghe quindi temi che noi maggiormente abbiamo trattato nella nostra azione politica e quindi appunto c'era bisogno di una giornata così di vedere tutti i compagni o una gran parte di compagni che hanno contribuito e che pian piano si sono aggiunti all'associazione e alla lotta infatti in ultima fila da stamattina c'è Francesco Tramontano che anche oggi non parlerà perché lui è sempre d'accordo avete un militante così però quando sa tappia poi lui te lo dice se non è d'accordo però io gli chiedo ma no io sono d'accordo quindi quando sono d'accordo non voglio parlare però è Francesco di quei pochi che all'inizio hanno creduto che fosse possibile metterci in un periodo in cui si vive di associazioni che sono che vivono di finanziamenti di cose del comune eccetera eccetera noi no abbiamo avuto un esperimento completamente autofinanziato quest'anno il bilancio ha superato i 7000 euro il tesorio ci spiegherà pure che questo è dovuto non a grossi finanziatori istituzionali che abbiamo eccetera ma magari dai poveracci che ci hanno dato 3 euro 5 euro 10 euro anche noi eccetera quindi ok certo è un minimo esperimento non possiamo avere fare la diciamo la beatificazione dell'associazione radicale per la grande Napoli i nostri numeri per una città come quella che viviamo una metropoli sono assolutamente insignificanti però noi sappiamo anche la forza di un gruppo piccolo e motivato cosa quali risultati può produrre non ci sarebbe nessuna ragione per censurare una assemblea come la nostra quando con le debutive i altri partiti sono su tutti i giornali tutti i giorni questo io lo interpreto sempre come un segnale di difficoltà da parte del regime quando sono costretti a censurarti in questo modo così ovvio perché l'analisi che avevamo fatto è che c'era questa crisi economica sociale che abbiamo anche visto un po' in anticipo grazie a Luigi che appunto faceva opera nel mercato finanziario Rodolfo che è sempre un pessimista e l'avete sempre peggio e quindi abbiamo detto qua la gente sta per strada andiamola a incontrare per strada hanno perso il lavoro loro vogliono capire come interpretarla questa fase politicamente eccetera c'è lo spazio per un movimento e insomma nei nostri piccoli numeri sembra che qualche ragione ce l'avevamo ora c'è da progettare il futuro dell'associazione e questo sarà importante farlo tutti insieme a partire già da prossimi giorni perché anche questa assemblea io spero che sia un'occasione militante come tutti i nostri incontri c'è da pensare da ragionare tra di noi quali forze avremo per la prossima sfida che ci aspetta se decideremo di partecipare a un gioco che è un gioco truccato noi sappiamo cioè le condizioni in cui si va il voto ce l'hanno detto anche in alcuni interventi che abbiamo avuto oggi qua sono oltre a ogni ragionevolezza e ogni limite di regolarità non è possibile non sapere quando si fa votare una data che si dice per farla ascoltare la Repubblica ma non si scioglono ancora le camere insomma io credo che noi dovremmo tentare dovremmo e dovremmo tentare di presentarci a queste elezioni politiche se la formula della rosa del pugno del simbolo della rosa del pugno è quello l'unico che ci consente comunque in pochi giorni in pochi giorni che dovrebbero accogliere le filme di essere riconoscibili vada anche per il simbolo che non sono tra gli entusiasti se lo sapete mi piacciono più teorie liberali e spero che questa rosa del pugno riesca comunque a qualizzare se esistono in questo paese credo che esistano anche quelle forze liberali che ora sembrano orientati verso altri tipi di movimento tipo quello di Giannino eccetera quindi la forza cioè proprio ieri mentre accadevano le cose il segretario di Radicali Italiani ha mandato a noi componenti della direzione nazionale una comunicazione nella quale si chiedeva il nostro giudizio su appunto la proposta di Marco Panella e devo dire che ho risposto che noi ci saremo non avevo il tempo di sentire tutti i compagni dell'associazione siamo diventati così tanti per cui mi sono preso questa responsabilità di dire ok ci stiamo e faremo di tutto per adempere le formalità che ci toccheranno perché so le abbiamo condotte apposta questi esperimenti che saremmo potremmo essere in grado a Napoli di raccogliere queste file però molti non hanno il know-how una firma una corte di firme delle elezioni diciamo anche perché i vari regionali sono stati gestiti in un modo diverso insomma qua siamo in pochi ad averlo sarebbe veramente un'impresa difficile però siamo riusciti a raccogliere migliaia e migliaia di firme non autenticate e quindi l'impresa si potrebbe tentare io direi di giocarci però ci dovremmo riflettere davvero nelle prossime ore perché per esserci bisogna riconquistare delle condizioni di legalità bisogna poter parlare ai cittadini bisogna poter dire come faccio a fare una raccolta di film se poi su giornali nelle televisioni eccetera non posso comunicare a che ora ci sarà il mio banchetto da qualche parte io che cosa le tribune elettorali in Italia sono abolite da 5 anni l'analisi che insomma noi facevamo che il PD il PD l'erano le due gambe del regime che si leggevano insieme e che probabilmente sarebbero roolati insieme hanno ristretto tutti gli spazi della democrazia non credo che questo regime si può permettere di mandare al voto solo 4 partiti o magari 5 che non rappresenterebbero non lo so quanto il 50% degli italiani forse è troppo quindi penso che ci sono dei margini di agibilità politica entro i quali noi ancora una volta possiamo far scoppiare qualche contraddizione e magari infilarci in quei piccoli pertugi che appunto la nostra intelligenza la nostra visione politica ci offre che potrei poi insomma qua sono venute tantissime sollecitazioni da parte di tanti militanti insomma che dire sul carcere qualcuno ha parlato di una sconfitta del segretario direi assolutamente di no uno dei interventi che ho dei passaggi che oggi ho maggiormente apprezzato è stato quello di appunto Marco Pertuca quando ha detto la bellezza del fatto che c'è una persona che vuole fare un'iniziativa e da solo non fa niente se la va a fare lo stesso devo dire che io la penso esattamente così e ho sempre difeso il segretario anche quando abbiamo invitato il gruppo sempre nella stanza del carcere a dire vabbè no io non ci vedo Luigi perché ho proposto nel comitato nazionale una mobilitazione per entrare nelle carceri chiedere ai detenuti anche il contributo l'iscrizione e magari di organizzare una campagna di autofinanziamento io ci vengo soltanto se riusciamo a fare una cosa integrata non nel tentativo di continuare un dialogo che a volte può essere più disperato però queste erano diversità di valutazione politica e comunque poi ognuno non è mai stato con le mani in mano perché mentre uno andava a foggere l'altro organizzava altre vicende la forza della nostra iniziativa di quest'anno è stata soprattutto quella come ha detto Roberto Gaudioso di non fermarci mai perché negli anni passati c'era il mese dove appunto non si riusciva a fare organizzare la riunione non si riusciva a mettere in vita l'iniziativa quindi si fermava un po' bisognava ripartire quest'anno come dice anche il nostro sito c'è stato un 12 mesi sempre di attività programmate e messe in campo abbiamo raddoppiato gli iscritti abbiamo raddoppiato le visite sul sito insomma l'anno scorso quando stavamo qua Mario Saterini vende e ci rese anche in giro perché disse è chiaro se voi invece di vendere la sala da 250 posti la prossima volta vi invitate per una sala da 50 non sembra che c'è di 7 eccetera eccetera e gli disse Mario guarda oggi è un caso che qua non ci sta tutta la gente che ci dovrebbe stare perché noi abbiamo tutta una serie di dati che sono di esplosione di crescita dell'associazione e se non sarà quest'anno sarà per l'anno prossimo ecco ora gli iscritti comunque sono raddoppiato abbiamo visto un po' di 100 di più però secondo me dobbiamo fare ancora ancora di più ancora di più finché avremo un luogo dell'orrore nella nostra città come quello di Poggeleale che vi ricordo è l'unica università napoletana che funziona come disse Marco Mandella quando veniva a fare il primo discorso del Consiglio Comunale di Napoli e disse ma che lo prima era a fare il calcio di Secondigliano non servirà niente sarà peggio cioè sarà un altro calcio sovraffollato e poi in generale diventerà ancora peggio cioè esattamente quello che è accaduto come spesso quello che poi Marco ci ha raccontato e ci ha descritto e adottato qui a Napoli insomma purtroppo non siamo riusciti ad evitarlo questo non è un merito però noi non siamo ci siamo ancora e c'è sempre il Vesuvio e per fortuna sta là no è sta calmo ma noi abbiamo questa responsabilità siamo l'associazione radicale per la Gran Venata abbiamo scritto anche emozioni stiamo seguendo perché per fortuna poi quest'anno lo devo dire anche qua si sono avvicinate persone che davvero insomma ci hanno consentito in un momento di stanchezza di andare avanti un sacco di onere lavorando tipo Giuseppe Alterio che quest'anno è stato veramente determinante diciamo per assolutamente per 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 uno qualsiasi perché Giuseppe non l'abbiamo mai sentito finora non è membro del comitato non è un dirigente dell'associazione eccetera eccetera quindi è uno che lavora veramente in silenzio però è stato importantissimo per l'organizzazione dell'associazione quindi Quindi finché ci sta un luogo così dell'orrore, ci sarà bisogno di persone che con intelligenza vanno a evidenziare cosa sia questo sistema, perché noi vogliamo una giustizia che funziona, abbiamo avuto un successo nelle nostre iniziative anche perché come dimostra anche l'attività che sta facendo Donato a Salerno, importantissima, perché è l'unica associazione che ci viene dietro, lotta con noi tra chi fanno organizzati più cose, nelle carceri, fuori dalle carceri, perché in Campania si sa, a Napoli teniamo un cittadino su due che è pregiudicato, il tema della giustizia qua è fondamentale e quindi continueremo a lottare, però appunto io vorrei che quel posto non fosse più l'università della Camorra, ma fosse un posto dove anche il cittadino che viene preso per strada per una sciocchezza qualsiasi che deve passare un giorno, due giorni dentro eccetera, non debba subire quelle torture alle quali poi finisce per essere sottoposto e come i familiari, quelle persone che sono in coda in quelle situazioni, insomma noi dovremmo cercarli di darci della forza per riuscire anche a vincere delle battaglie, alcune le abbiamo vinte in questi anni, ci hanno dato grossa forza, essere stati quelli che in un momento così difficile per radicali italiani, quando era più di un anno che non si riusciva a fare un passo avanti per la situazione dell'anagrafe degli eletti denominati, e riuscire ad approvare quella delibera a Napoli come modello, come prima grande città che promuove quella cosa, ha fatto sì che poi in tante altre città venisse dietro, insomma siamo stati in prima fila, però questo ci dà soltanto responsabilità maggiori, ci sarà più da lavorare, ci sarà da recuperare più soldi, da fare più iniziative, però dopo una giornata così bella secondo me noi possiamo uscirne appunto con questa forza e poi veramente vi dico che se ci avete qualcosa da fare prima delle feste, le gare, le cose eccetera, fatele nei prossimi due o tre giorni perché può darsi che tra quattro giorni vi chiamo e ci dobbiamo stare tutti quanti in strada a raccogliere le elezioni, ok? Quindi, ok, ciao Marco Tu lo sai quello che dovevo dirti e scappi perché hai la coscienza sporca, ecco abbiamo Marangela Pisano, ex tesoriera dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli Allora, parlare un po' di un nuovo cuore, però ci sono un po' di preoccupare Allora, buonasera a tutti Voglio cominciare ritraziando di cuore l'Associazione per la Grande Napoli di cui io sono stata con grande, grande piacere e onore la tesoriera dell'Associazione Radicale per l'Associazione Radicale per l'Associazione Radicale per l'Associazione Radicale per la Grande Napoli Non posso essere sempre, per i beni e cose varie, io veramente ringrazio di cuore tutta l'Associazione e chiaramente tutti quelli tanti perché veramente sono instancabili Un grazie va anche a Luigi di cuore perché Luigi è un vero radicale, libero e efficiente e un po' mi dispiace che non si ricandida, però io sono d'accordo per il rinnovo dei ruoli per cui va bene così perché tanto i radicali non hanno bisogno di ruoli per poter agire lo fanno sempre, in silenzio, facendo chiasso, rumore, lo fanno sempre In questo momento sta entrando un amico carissimo, Antonio Gaudioso, cugino del misoniere Roberto che è venuto anche al congresso, anzi no, alla marcia diciamo Allora, vorrei cercare di dire un po' di cose, però mi ripeto su una cosa Io ho scoperto di essere radicale da 40 anni, però ancora oggi mi pongo sempre la stessa domanda Allora, tutti si lamentano, vogliono la legalità, vogliono la giustizia però ecco, già la nostra associazione è costituita da più di 80 persone Noi ne siamo pochi oggi, per non parlare poi di tutta quella gente che si lamenta e non prova, almeno per una volta, a votare radicale Non ve lo spiego, ci penso sempre, vi dico tutti i giorni ci penso, perché non mi rassegno Perché non dare una volta il pieno consenso ai radicali che hanno dimostrato con il referendum, con tante iniziative che sono veramente efficienti, sono veramente all'attezza del compito, ma purtroppo i radicali sono italiani E l'Italia, la società italiana, ha due grossi cancri, la chiesa e la mafia che costituiscono il nostro Stato, il nostro governo Per me, grazie, 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 dopo voi Per me chiesa e mafia rappresentano l'omertà L'Italia è un paese biglotto, è un paese giustizialista dove il carcere è la migliore soluzione di tutti i colori che peccano e quindi devono marcire, devono stare là Ancora questo si pensa è pazzesco Io sono sicura che degli 80 iscritti più tutti quelli che magari dicono di essere simpatizzanti dicono di aver votato radicali Radicale Se malaguratamente si trovassero in una situazione cioè cadessero in disgrazie con la giustizia italiana correrebbero per prima cosa da noi radicali In quel momento serviremmo Pannella direbbe va bene comunque perché Pannella è un illuminato quindi accoglie veramente tutti quindi va bene così però molte battaglie, molte iniziative hanno bisogno di numeri, di persone hanno bisogno di persone che si attivano per strada a fare tavoli, a raccogliere firme quindi è pur vero che abbiamo bisogno di forze, di forze nuove Io stessa non riesco più a fare tavoli che facevo un tempo, 30 anni fa, 30 anni fa un po' per l'età, un po' per il tempo che manca, per tante cose e allora abbiamo bisogno di energia nuova e vi dicevo, io ancora oggi non mi rassegno voglio capire perché questa solitudine allora che cosa ho fatto? Allora innanzitutto guardate quanto è bello Marco su questo libro questo è il libro di Vecelio che per me è diventato quasi un vangelo e qui c'è il discorso che Pasolini avrebbe dovuto tenere al congresso radicale del 1976-75 esatto e non riuscì perché fu ucciso, fu barbaramente ucciso tra l'altro in questi giorni ho anche avuto il piacere di vedere un film mai visto allora, siccome il tempo è poco mi potete interrompere in qualsiasi momento perché non voglio non voglio rubare tempo agli altri quindi ho visto il film Pasolini, Un delitto tutto italiano sì, di Marco Giulio Giordano è un film meraviglioso hanno massacrato letteralmente Pasolini e quando hanno trovato l'assassino tra virgolette perché poi in realtà non era il vero assassino gli hanno dato nove anni chiaramente la gente diceva va bene così anche e non hanno continuato le ricerche non hanno voluto trovare gli altri assassini quindi questo, diciamo, la dice lunga la dice lunga sullo stato bigotto italiano la dice lunga sui nuovi metri politici che c'erano dietro e l'Italia è questa purtroppo l'Italia è proprio questa e mi dispiace tanto dirlo però noi siamo italiani e vi voglio leggere se non sarò troppo lunga vi voglio leggere alcuni passi di questo discorso di questo discorso che lui aveva preparato è molto lungo e non vi nascondo che è molto difficile perché Pasolini era un grande filosofo era un grande intellettuale e quindi l'ho detto più di una volta perché certe cose non mi erano molto comprensibili sono due parole prima di tutto devo giustificare la presenza della mia persona qui non sono qui come radicale non sono qui come socialista non sono qui come progressista sono qui come marxista che vota il Partito Comunista Italiano e spera molto nella nuova generazione di comunisti spera nella nuova generazione di comunisti almeno badate bene almeno come spera nei radicali e vabbè poi devo saltare per forza perché è lunghissimo lui dice le persone più adorabili sono quelle che non sanno di avere dei diritti sono adorabili anche le persone che pur sapendo di avere dei diritti non li pretendono o addirittura ci rinunciano sono abbastanza simpatiche anche quelle persone che lottano per i diritti degli altri soprattutto per coloro che non sanno di averli e ne sono tanti dico io ci sono nella nostra società gli sfruttatori e degli sfruttatori ebbene tanto peggio per gli sfruttatori dice Pasolini devo saltare perché purtroppo è veramente lungo Pasolini parla di alterità e vi dico subito che secondo Pasolini i radicali lottano veramente per quella alterità alterità che per sua stessa natura esplode ogni possibile assimilazione degli sfruttati con gli sfruttatori in che senso la coscienza di classe non ha niente a che fare con la coscienza dei diritti civili marxistizzati in che senso il piccino non ha niente a che fare con gli estremisti anche se alle volte per via della vecchia diplomazia burocratica li chiama a sé tanto per esempio di aver già codificato il 68 sulla linea della resistenza devo saltare perché leggerlo tutto alterità che avrebbe dovuto modificare radicalmente i rapporti sociali esistenti ossia detta antologicamente la cultura esistente ecco perché attraverso vabbè passo ad altro lui dice caro Pannella caro Spadaccia cari amici radicali pazienti con tutti come santi e quindi anche con me l'alterità non è solo nella coscienza di classe e nella lotta rivoluzionaria marxista l'alterità esiste anche di per sé nell'entropia capitalistica quindi essa gode la sua competenza la sua fattualità dunque bisogna lottare per la conservazione di tutte le forme altette e supertette di cultura ora dire alterità è enunciare un concetto quasi limitato mi dispiace molto saltare veramente perché io vi consiglio di leggerlo tutti lo potete trovare io credo io ho avuto la fortuna di leggerlo qui e quindi però veramente dovreste leggere perché oltretutto poi questo libro contiene tutto contiene il caso Tortora contiene ma veramente c'è di tutto veramente tutto vabbè poi parla ah ecco qua non parlo dei vostri simpatizzanti attenzione non parlo di coloro che avete raggiunto nei luoghi più lontani e diversi fatto di cui siete giustamente orgogliosi parlo degli intellettuali socialisti degli intellettuali comunisti degli intellettuali cattolici di sinistra degli intellettuali generici so che sto dicendo delle cose gravissime d'altra parte è reinventabile quindi guardate cioè vi rendete conto che analisi lucida illuminata ha fatto Pasolini ecco perché lucida continuamente Pannella lucida continuamente e prende molto da lui chiaramente stringo contro tutto questo si rivolge ai radicali contro tutto questo voi non dovete far altro io credo che continuare semplicemente a essere voi stessi si rivolge ai radicali ovvio il che significa essere continuamente irriconoscibili quando ho letto questa parola ho trovato un poco di pace perché perché dico possibile radicali che veramente fanno politica non devono essere riconosciuti non devono essere apprezzati e quindi tantomeno votati allora il fatto che me l'abbia detto che ce l'abbia detto Pasolini mi conforto un pochino ma soprattutto vorrei confortare i tantissimi radicali che vanno e vengono dalla nostra associazione alcuni vengono prendono e se ne vanno alcuni vengono e ci fanno perdere tempo alcuni vengono e imparano meglio così perché il nostro laboratorio politico pervengano tutte a imparare qualcosa purché non prendano quello che non gli è dovuto perché a noi l'associazione costa fatica soldi energia tempo il nostro caro tesorino mi prende in giro perché dice io sono una radicale intransigente io farei fare il testo d'ingresso a loro che arrivano sì è vero glieli farei fare glieli farei fare allora perché ma per carità infatti mi consola che lo dica Pierpaolo che lo dica Pandella mi consola molto però siccome noi diciamo abbiamo pochi mezzi pochi soldi poca energia insomma non ne possiamo poi regalare tanta a coloro che vorrebbero solo prendere e non dare niente in questi io sono un po' più severa però forse devo crescere devo crescere un po' dice Pandella no 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 Pandella allora ai radicali ma oggi manco un pasolino di oggi sono molto emozionata vi spiego perché perché aver saputo che Pandella non sta bene mi fa stare molto molto male molto male diceva diceva Pandella perché chiaramente queste cose risalgono a tantissimi anni fa io lo dicevo da dieci giorni Pasolini sta fidendo di vivere di scrivere l'ultima stazione del suo d'olvola il quadro a me era chiaro lo dico tuttavia con una punta di rimpianto sono parole di Pandella perché non mi ero reso conto di quanto in fondo io importassi a Pasolini la sua scelta ce la raccontava tutti i giorni al suo modo quando diceva che non si distinguevano i ragazzi del Circeo i fascisti assassini dagli altri da quelli che mi frequentava Radio Belva come era chiamato il GV2 di Gustavo Silva proprio la mattina del ritrovamento del corpo di Pasolini mi telefona e io era a Firenze dichiara a quei microfoni sono addolorato ma non sorpreso è sempre Pandella che parla addolorato perché in pochi abbiamo compreso che Pierpaolo ci annunciava appunto la sua ultima stazione era una lettura che saltava tutta la ritta di interpretazioni che stavano intorpidando intorpidando i media se fosse possibile mi leggerei tutto il libro vi giuro però non è possibile allora credo di aver dato per carità non parlo di contributo però penso a qualcuno abbia fatto piacere sentire qualcosa di Pasolini mi avvio a concludere allora per quanto mi riguarda l'amnistia è una cosa lottana da venire perché secondo me questo non significa che non dobbiamo continuare a lottare anzi è un motivo in più per lottare l'amnistia sarebbe il riconoscimento di un fallimento di una politica giustizialista però è già avvenuto quindi non vedo perché non possa avvenire di nuovo per quanto poi riguarda sempre la solitudine io spesso ho regalato copie di libri per esempio il Maratoneta ho regalato dieci copie Maria Angela devi stringere un po' sì sì ho finito veramente ho finito ma sapete che di tutti i libri che ho regalato neanche una persona mi ha chiesto qualcosa su quel libro non l'ha letto si scoccia ho regalato Sete di Verità di Pannella ho regalato altri libri adesso direi quasi basta perché me li tengo per me e vabbè vorrei dire tante cose però assolutamente finisco penso che voi tutti avete letto la mozione la nostra mozione la trovo veramente efficiente efficace se riusciremo a realizzare e perlomeno a lavorare sui punti quindi io se posso do già il mio come dire il mio parere favorevole la trovo veramente veramente ricca e bella non va bene dire bella un saluto all'associazione un grazie di cuore e un grazie per avermi ascoltato sperando di non avervi fatto bene grazie 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 per le cose che erano una storia come la lettura di Pasolini e adesso Guido Sartoro sentite ho perdonato un piccolo pro memoria perché vi ha detto Luigi che possiamo consegnarlo agli altri radio della vita è un breve intervento sull'ultimo progetto sogno sogno che è bene o male con quel poco di sforzo ancora che c'è destinare al giornalismo cui mi sono dedicato più di vent'anni fa grazie a mio padre giornalista mattino quindi un po' un estratto diciamo di quel poco che mi sono sentito di chiedere come programmazione nei miei sentimenti nel mio bisogno di sognare alla stampa negli ultimi tempi come giornalista diciamo non ha cresitato piccolo redattore del mattino e della Repubblica abbiamo richiesto istruzione igiene e ambiente istruzione principalmente per resistere agli chiamarsi più incongrati di questa cilindra anche provinciale quindi sono possetti per venire da Napoli igiene ovvero sanitaria in pirassi e al pirassi medica e crinia che mi sembra stato sottendo buoni effetti nella loro reintroduzione ambiente ovvero forestazione comunità montane all'armi idrogeologico e assistenza ai animali domestici e un po' una sintesi anche dell'estratto delle petizioni che un po' tutta la sinistra progressista radicale abbiamo sempre presentato per tale motivo poi nell'esigenza di pepe che vengono da cammizzato quartiere mattoniato perché avevo già sottolineato vittima della criminalità sottolineano l'esigenza di vincere i quartieri della provincia per la prevenzione e anche nella circostanza l'esigenza ricorre molto più spesso a quello che è il metodo più comune della criminalità della provincia cioè che si favore scappatezza di prezzo questo è il senso della mia adizione all'associazione e questo è il mio proprio memoria per la grazie 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 Guido noi ti ringraziamo per aver scelto di essere appunto un nostro compagno e spero che rinnoverai l'iscrizione noi non abbiamo avuto la forza anzi quest'anno tra i nostri sperimenti qualche tavolo in provincia nelle periferie napoletane è uscito innanzitutto in zona che subiano è flegrea ma proprio Luigi ci hai in mente di ah hai confermato già l'iscrizione mi dicono mi fa molto piacere e noi veramente daremo impulso a queste attività anche sul territorio dei comuni della provincia di Napoli che è una città metropolitana è conventale bisogna pensarla Franco Levi tessera numero uno dell'associazione radicale per la grande Napoli Franco siamo felici ancora una volta di arrivare di più di più di più viva l'Inter e la ripetita di un lento questa mozione che ha raccolto in molte firme certamente passerà e sarà diffusa è già stata mandata come raccomandazione tanto al comitattone di radicali italiani quanto a congresso di ergi feboli è possibile trasformare soltanto i rifiuti della campagna le ecoballe in idrocarburi con il retimo petrolio soltanto le ecoballe della campagna possono dare all'Italia gli idrocarburi necessari che a tre anni almeno senza bisogno di portare un down away piuttosto che dal texas o dall'Iran o dall'Aquila per questo sanno i faraoni i quali hanno fatto di tutto per portare sempre ogni energia rinnovabile ogni risorsa alternativa perché i faraoni andrebbero in pensione e noi siamo proprio qua per mandare in pensione ogni faraone capone cannone io invito tutti i napoletani a venire oggi sabato 15 dicembre 2012 ore 19 in piazza dei mantiri il rabbino va appunto accenderà la menorà la lampada di Hanukkah la festa delle luci ricordo un miracolo che accade tre mila anni fa e dito l'esilio in Babilonia siamo riusciti a tornare a Gerusalemme a riuscire il tempio dovevamo riaccendere il lume perpetuo e l'olio per questa funzione deve essere purissimo bisogna spremere le olive e aspettare 40 giorni perché depositi e diventi liquido come l'acqua è stata trovata una ampolla di olio purissimo risalente a prima che fossimo deportati in Babilonia ma poteva durare al massimo poche ore hanno acceso il lume perpetuo e durato 8 giorni il tempo necessario per cominciare a avere ancora olio limpido per poter alimentare il tempio il lume sacro perpetuo quindi già allora c'era qualche cosa io vi dico non sto a leggere la mozione anche se non è così lunga voi l'avete in mano spero che venga stampata è possibile eliminare le scorie nucleari con la fusione fredda che ottiene tanta energia pluita a basso prezzo e si possono eliminare le scorie nucleari il vecchio eolico è superato le tori eoliche mostruose hanno data conferma negli ultimi giorni della loro natura mafiosa non soltanto in Sicilia e Calabria esistono gli aquiloni sequoie che prendono energia a 10.000 metri di quota che permettono basterebbero quelli per fare a meno del petrolio voi siete giovani io da 3.000 anni sento dire basterebbe questa cosa e potremmo fare a meno del petrolio decine di fonti diverse d'energia risultato petrolio non abbiamo i soldi per comprare la benzina per andare a lavorare ci sarà il compito di interesse io mi chiamo Levi credo molto nella Levi Levi levitazione magnetica il nostro amico grazie Aldo Loris Rossi dice i comuni intorno a Napoli formano una corona nota come la corona di spine ecco signori con la levitazione magnetica è possibile fare tutto al di sopra di questo al di sopra delle case e si possono collegare Helsinki con uno l'Uru Lisbona con Vladivostò senza sbutellare le montagne le campagne i territori altro che Tau no la mafia vuole Tau c'è di meglio le alternative ci sono anche il solare i pannelli sono superati esiste il solar spray micro mano pannella piccolissimi pannella un micro di lato di diametro basta spruzzare questo solar spray sulle montagne roggiose o sul monte stella di Salerno o sulle pietraie diventano belle auree si mette un morsetto qua un morsetto là e si può mungere la roccia tirando fuori tutta l'energia che si vuole no pannelli poi si scopre che coprono le campagne e al posto delle coltivazioni mettono questi pannelli per cui non ci sono più coltivazioni tutta colpa del solare sì tutta colpa del solare fatto male perché si possono fare male anche le cose buone le alternative ci sono ci sono tante altre possibilità i grandi progressi dei veicoli il navigatore che ti dice la terza sinistra intorno alla rotonda gira la seconda a destra però esistono e funzionano ormai i veicoli rovono uno anche se è un riatto o peggio se è una donna ti mette al volante e dice andiamo a casa poi si mette a dormire a guardare la televisione o a studiare il rebus cruciverba sciarate e il navigatore lo porta a casa e quindi non saranno più pericolosi al volante nemmeno i piloti matti neppure le donne ma chi gliela dà la patente come diciamo in lingua la vuole dà la colpa alla giuda di quei che vedano la patente ai doni bravo io sto preparando un libro e se voi lo leggerete le vostre le vostre stile pubbicheremo anche quelle delle visione successive dove ci sono gli elementari su questa iniziativa si chiama Demo Rivolta Giudaica io non lo aggiungo altro però vi ricordo che grazie a Guido compagno io mi sconfondisco sempre tra Guido e suo fratello Luigi perché sono bravi tutti e due nello stesso modo ora grazie a Luigi compagno e al suo libro Teodoro Herz il mazzini di Israele con prefazione di Francesco Cosiga il sionismo è tornato una proposta estremamente valida tutti i rivoltosi delle primavere arabe elusi sia dai vecchi faraoni sia dai nuovi faraoni si rivolgono al sionismo per poter mandare in tensione ogni cannone faraone capone e adesso stanno uscendo altri libri e spero che presto possiamo tornare specialmente in campagna a presentarli mi ricordo domani all'associazione radicali e saverna sarà possibile parlarne dal signor De Luca quando abbiamo fatto il progresso di radicali italiani ha detto ah sì che bello che bello i doni hanno rimasto il nuovo vermo valorizzatore invece dell'impianto per il suo petrolio col quale le epoballe diventano idrocarburi senza inquinare perché cucinano i rifiuti a 400 gradi si chiama termoisi invece di fuggiarli a 1200 gradi piroisi che producono diossina con i risultati che vediamo tumori campi morti malati bene tre mesi fa un magistrato ha detto abbiamo scoperto che dal comune di Salerno ogni giorno escono 740 mila euro e il giornalista gli ha chiesto e da dove vengono da Salerno e dove vanno a saperlo questa risposta dopo 100 giorni a saperlo però io so che vanno a quelli che hanno messo i vermo valorizzatori fingendo di regalarli al popolo campano e in realtà avete mai sentito parlare di come ho dato d'uso per cui tu prendi magari uno scaldapagno un frullatore o una cucina arredamento completo e non paghi però dopo ogni mese paghi la metà di quello che avresti speso per comprare e già dopo tre mesi hai speso il 150% io vi dico che vanno in quei soldi e sta venendo fuori quello che succede in tutta Italia e in tutto il mondo perché la mafia è sempre quella di chi non vuole il retro petrolio di chi non vuole il solare uomo il macchino volare non vuole e vi aggiorno in pratica vengono dalla mafia del cannone e del parale io chiudo qui vi invito a approfondire speriamo di ritrovarci presto anche per parlare di questi libri quello di Compagna quello della Maritzi quello della Pongard e tanti altri è il momento nel quale possiamo veramente mandare in pensione con la rosa nel pugno con l'associazione radicale per la piccola Salerno per la grandissima Napoli mi ricordo che mentre accadevano quelle cose negli salerni da queste parti nasceva una città nuova Neapolis la conoscete? or bene noi con la limitazione magnetica possiamo andare intanto collegare Napoli con Roma e fare la nuova nuova città la nuova Napoli a nord del Voltù nel confine tra Campania e Lazio e metterci al sicuro dalle furie dalle lune dell'antico vesuvio perché c'è chi ricorda per esempio l'eruzione di Avellino 5.000 anni fa può capitare ancora fra 5.000 anni o fra 5.000 giorni o fra 50 giorni o fra 5 minuti e hanno autorizzato ancora edificare sotto il vesuvio ragazzi ma questa è veramente folia poi magari anche i camorristi rischiano di vivere sotto i lapilli e come si chiamano i fenomeni piropastici si dice comunque ragazzi la tematica esiste e Rosa del Pugno ci aiuta anche a salvare i nostri conditonti socialisti politici ce ne sono tanti perché quelli che hanno suicidato la Rosa del Pugno hanno suicidato il Psi per fortuna i socialisti politici sono ancora vengano con noi vedrete che c'è l'alternativa tanto al PD quanto al PDL e chissà che belle sorprese vedremo alle prossime elezioni speriamo chiedo un regalo per il mio compleanno io compio gli anni 69 il 9 maggio 2013 e chiedo che si faccia l'Election Day in quella settimana lì ci sto vedrete e così e così Giorgio Napolitano anche se in trimestre bianco può sciogliere le camere alla scadenza naturale e devono venire tante belle cose fuori nei prossimi tre o quattro mesi da anche a noi farei di fuori bravo 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 ho finito completamente la tua analisi e devo dire che sarà purtroppo la sfortuna di chi inizia a farsi vecchio ma ti ascolto da così tanti anni che ormai mi sembra di capirti benissimo e certe cose che tu dici ormai sembrano anche poco superate tipo quelle delle macchine che guidano che vanno da sole perché vediamo cose che tu dicevi da tanti anni che ormai queste cose sono una realtà quindi noi siamo felici di chi appunto riesce a pensare anche il futuro insieme a noi e poi sei stato l'unico che ci ha ricordato i ferroflussi più plastici se non finivamo l'assemblea dell'associazione della Cade Napoli e Pannella ogni volta che ci vedrà tutti quanti a Roma dirà ma tu lo sai perché l'associazione della Vigale della Cade Napoli si chiama l'associazione della Cade Napoli quindi grazie a Franco Levi che a me è venuto da Milano e ce l'ha ricordato questo è una cosa che noi non poteranno non poteranno diciamo e che io la c'è di questo allora c'è ma ci sta Mandalena Artucci dopo di che Vamonte Maria poi abbiamo ancora Giuseppe Altero Roberto Giardino manca esposto in Mila Foscolo diciamo che 7-8 minuti così alle 19 in punto come avevamo detto riusciamo a chiudere va bene? beh buonasera a tutti stasera non parlerò di sicuro né di mio figlio che ha una cosa da dire per i compagni della grande natura c'è senso? allora io li ho conosciuti tramite una persona di signora Domenico Foscolo che un giorno mi chiamò su Facebook e mi disse posso esserti amico e passarti a Rosario Spognamiglio? io gli dico di sì anche perché già stavo con i radicali con i ragionieri della testa per cui mi disse vieni fuori Poggio Reale a io farevo una manifestazione con i radicali che facevano una visita a Poggio Reale da lì conosco per la grande Napoli beh io ho perso una famiglia da quando mio figlio aveva in carcere la mia vera famiglia e l'ho conosciuta adesso per la grande Napoli mi appartendo prima Luigi parlava dei familiari tenuti come parenti io tengo loro come parenti veramente in particolar modo voglio bene a tutti ma uno in particolare di più devo dire è Luigi Mazzotta lo dico con vero cuore perché lui mi è stato vicino tanto anche nei momenti specialmente a Lecce quando mio figlio stava a Lecce mi ha dato un aiuto grande e se non fosse stato per lui quel giorno che mi raffinano il postello dalla borsa io non avrei visto neanche mio figlio dopo quante ore Luigi abbiamo viaggiato a mezzanotte lui non si diede per vinto mi fece fare la tessera alla Lecce io ero la maiera assegnata a non andare lui ha fatto di tutto per farmi avere la tessera tutto fino a mezzogiorno mi ha accompagnato la caccia ce lo ringrazio di cuore e gli voglio veramente un gran bene a questo aggiungo un saluto per Marco Pagnelli gli faccio tutti i miei curvi per questo che ho sentito stasera lunga vita lunga vita veramente e anche a Rita Bernardini perché l'ho vista poche settimane fa si è sciupata tanto e voglio dire stasera di finirla con questa fame e sete che fa e a Luigi gli voglio dire una cosa Luigi hai fatto tanto e quello che mi dà fastidio Patrice parlante l'ha detto prima di me che tutti i volenti detenuti e voglio di gridare che se loro non si presentano per il crimine l'amministra non la possono la guerra non si fa solo con i radicali ma si fa insieme uniti non si può avere così alla buona io sto per il mio figlio e per il carcere ma non lascerò mai queste battaglie né adesso né quando uscirà né dopo sarò sempre un radicale prendo un pensiero che leggo sopra facebook da parecchio penso da radicale ma non sapevo che ero radicale beh tanti di noi siamo radicali e non lo sappiamo adesso io ne sono convinta e sono convintissima di quello che sono luigi ti do un po' ti abbraccio mi dispiace che ti vada segretario ma so che ci sei sempre vicino lo dò anche lo dò quando l'ho disturbato qualche sera l'ho chiamato quando successe faccio il fatto di vecce mi consolo anche lui non mi hanno mai detto niente e li ringrazio per tutto l'appoggio che mi hanno dato un bacio a tutti quanti anche a tutti e a tutti che non mi sopportano bella bella ora stiamo diventando in quel clima familiare che riconosco quelle belle riunioni del venerdì sera allora la parola a Belmonte Maria Nel ultimi 10-15 anni mi risulta che Napoli sia stata una cucina di progetti non so se perché? sia stata una allora mi risulta che negli ultimi 10-15 anni Napoli sia stata una cucina di progetti tendenti a coinvolgere i paesi che gravitano sul bacino del Mediterraneo e questi progetti si sono concretati ad esempio nel 2005 nell'assemblea parlamentare del Mediterraneo che è stata fondata proprio a Napoli adesso invece la sede a Malta riunisce i paesi che vanno dal stati che vanno dal principato di Monaco ad Israele e il segretario generale di questa associazione è credo proprio un napoletano doc l'ambasciatore Sergio Piazzi che ha studiato all'istituto militare dell'Annunziatella poi si è laureato in scienze politiche all'Università di Napoli ma questi sono solo i due primi gradini di una carriera prestigiosa a metà novembre Sergio Piazzi ha partecipato a un congresso a Milano Science for Peace a cui era presente anche Emma Burrino e ha ricordato che l'assemblea parlamentare di cui è segretario ha rapporti con vari parlamenti ad esempio con la Knesset di Israele e ora è presidente di questa assemblea parlamentare un italiano Francesco Amoruso Amoruso chiedo scusa Francesco Amoruso che ha sottolineato dopo la sua elezione è che rappresentanti degli israeliani e dei palestinesi fanno parte del bureau di presidenza col proposito di risolvere i problemi che sappiamo applicano quest'area calda purtroppo fino ad ora non ci sono riusciti come dimostra anche il recente conflitto ora proprio da Napoli io voglio riprendere accennare non è possibile più intanto a questo tema risolto e scottante proprio da Napoli perché nel romanzo utopico di Theodor Herzl vecchia terra nuova al Neuland che è una prefigurazione dello stato ebraico realizzato e si parla di una nave che ha un nome italiano è un romanzo scritto in tedesco Futuro ed è una nave italiana che parte da Napoli sulla linea Napoli Alessandria d'Egitto e nel romanzo questa nave viene ingaggiata e eccezionalmente parte da Genova poi fa tappa a Napoli per portare nella Palestina che si sta formando e vuole diventare un paese quella di Herzl è un paese modello un paese sperimentale vuole portare in questa Palestina l'elite culturale di tutto il mondo e si stabilirà poi che ogni 25 anni questo viaggio dovrà ripetersi ora il 29 novembre 2012 quella che è la Palestina attuale ha ottenuto alle Nazioni Unite lo status di paese osservatore non membro la stessa posizione del Vaticano con un'ampia maggioranza di voti a favore compreso quello dell'Italia al termine di un discorso di Mahmoud Abbas il quale accusa tra l'altro Israele di colonialismo e razzismo l'uomo Israele rappresentano un capitolo a sé ai congressi radicali spesso abbiamo sentito persone vittime di persecuzioni e massacri raccontare che mentre fuggivano e si nascondevano nei luoghi più impervi si chiedevano dove fosse l'ONU ora l'ONU è invece sempre assente latitante sempre inefficace è bruttissima e zelante nel condannare Israele come è stato messo in rilievo anche su notizie radicali ecco mi limito a ricordare che nel 75 passò all'ONU una mozione che equiparava il stiorismo al razzismo mozione che poi fu nel 91 cancellata ora dopo 65 anni dalla risoluzione dell'ONU che autorizzava la nascita di due stati il 1948 non è stato considerato nel suo discorso da Mahmoud Abbas l'anno in cui cinque eserciti arabi attaccarono Israele per gettare gli ebrei a mare invece di formare lo stato di Palestina a cui Israele non si opponeva il 1948 è stato considerato da Mahmoud Abbas l'anno della NAC la sciagura estrema quando gli arabi di Palestina vengono cacciati dalle loro terre in parte in realtà se ne andarono spontaneamente aspettando che gli eserciti arabi vincessero il conflitto e il problema non si può dimenticare che il problema dei profughi esisteva come anche per Israele e infatti molte unità ebraiche che risiedevano nei paesi arabi da 2000 anni vennero costrette nel 48 e anche dopo la guerra dei sei giorni nel 67 vennero costrette all'esilio furono accolte però generosamente da Israele e integrante cosa che non è capitata invece con i palestinesi ma ecco per correggere l'ottica con cui si guarda l'Israele oggi vorrei portare ad esempio lo scrittore e intellettuale israeliano Amosot che è il fondatore che ha fondato Peace Now e che da 40 anni sostiene il diritto dei palestinesi ad avere uno stato ecco ora proprio Amosot in una intervista sul Corriere della Sera del 17 novembre dice che la ricetta reazione militare di Israele appare esagerata solo a chi non vive nel paese Israele si trova sotto l'attacco continuo dei razzi di Hamas almeno dal 2006 e si domanda quale paese sopporterebbe 12.000 missili in 6 anni senza leacidire ritiene quindi che non ci sia non ci fosse un'alternativa e che un attacco aereo è proporzionato sono parole sue solo per chi non è stato in Israele in questi anni senza contare che Hamas non vuole riconoscere Israele noi non riconosciamo Israele non riconosciamo la ripartizione della Palestina Israele non ha un diritto sulla Palestina sono dichiarazioni come la voce di Hamas agli York Times e anche OTS sottolinea appunto che Hamas non vuole vivi israeliani e continua a ripetere che non devono stare lì e con chi non mette in discussione la sua presenza e esistenza sostiene oggi non ci può essere un dialogo ecco ora io mi accorgo che dico cose che io come altri amici di Israele ripetiamo da anni in parte da decenni e senza alcun risultato quindi brevemente vorrei ricordare che i primi che abbiano fatto delle proposte concrete nuove considerate al limite della comunicazione sono proprio radicali nel 1988 in un caso non si sente no allora chiedo scusa sento con tutti in vari minuti perché lo so non ti vorrei mai interrompere però lo faccio perché ci sta troppa confusione in sala del piacere quindi per le confusione di colpa di mia figlia e quindi per esempio con quello di colpa della Juve dicevo che nel 1888 in occasione del primo congresso transnazionale tenutosi a Gerusalemme Pannella appunto Pannella pubblicò su Gerusalemme un articolo in cui auspicava l'entrata di Israele nella comunità europea negli Stati Uniti d'Europa e questa proposta è stata sostenuta particolarmente da Emma Bonino nel 2007 che la ritiene sempre valida anche se sono cambiati scenari politici internazionali soprattutto esiste sul concetto di due popoli due democrazie anziché due popoli due stati una soluzione conforme ai tempi della globalizzazione del post nazionalismo del XXI secolo ecco due popoli e due democrazie nell'ambito dell'Unione Europea ora all'entrata di Israele nella Unione Europea si sono dichiarati favorevoli tra gli altri Amosod e Elipise ma soprattutto una ampia percentuale della popolazione israeliana e ad esempio c'è stato un sondaggio anche nel giugno 2011 su circa mille intervistate l'82% un sondaggio fatto dall'Università Ben Curion del Neger si sarebbe dichiarata favorevole a un ingresso nell'Unione Europea di Israele non è stato fatto un analogo sondaggio tra i palestinesi ma dei giovani rappresentanti di Al Fatalo generazione fondata da Arafati intercistati da Radio Radicale hanno detto di essere favorevoli purché i palestinesi entrino in Europa come stato come questo processo di integrazione possa venire richiede certo ancora molto lavoro ma c'è da sperare che l'Europa si decida di tutelare concretamente Israele come un suo avamposto di cultura e democrazia che può e deve essere esportata in qualche misura anche Erso il suo stato ebraico spiegava qualcosa del genere e io chiedo che l'impegno radicale di questo tema non venga a meno e spero che sia così perché so che il partito radicale è composto da gente di biblica duraccia luce questo è quello grazie veramente come ha rappresentato l'associazione quest'anno la giornata per la memoria della strage di Monaco siamo noi speriamo che di poter essere anche diciamo un punto di riferimento per la cultura ovviamente noi non possiamo di riferimento ci piace essere mischiati e quindi conoscere anche poi le insomma quali sono quelle problematiche che poi si manifestano anche sul territorio come anche conseguenze di tutti questi processi internazionali allora comunque siamo quasi in orario perché abbiamo solo gli ultimi quattro iscritti a parlare intanto a questo punto tutti quelli che ormai non si possono più iscrivere a parlare perché sono arrivati tardi almeno li vorrei nominare tipo Luca Raimone Pino Simeoli Domenico non so si vuole Domenico Foscolo Elvira Foscolo insomma anche c'è un via amici amici che arrivano e altri che sono andati via però abbiamo ancora Roberto Gianquinto iscritto a parlare che non vedo in sala non so se è fuori ma magari lo facciamo intervenire dopo adesso c'è l'avvocato Marco Esposito che nella giornata di oggi si è iscritto all'associazione vaticana per la grande Napoli ma adesso ci conosciamo poi dopo il Vina Foscolo e Paola Laperuta e chiudiamo il dibattito e passeremo alla fase delle mozioni senti ringrazio cercherò di essere estremamente sintetico in effetti non sono totalmente nuovo ad esperienze radicali perché all'anno del 98 quando lavorai per alcuni mesi conoscenza senza giustizia in occasione delle conferenze di Roma sulla portenale internazionale una bella esperienza Marco Perlucca Marco Campato insomma c'erano un po' di amici Marco Perlucca è cristologico dopo 14 anni insomma poi iniziando a fare pratica a forense ho cercato di spostare alcuni di quei valori nell'ambito più propriamente avvocatizio creando un istituto forense per attese di chi umane che attualmente dell'ordine avvocati in Napoli che attualmente presidio e nella mia attività professionale ho cercato in questi anni di portare alle corte europee una serie di doianze una serie di accuse contro il nostro ordinamento il nostro governo ovviamente non per scarso patriottismo ma con fine di migliorare il sistema condivido quasi tutto non tutto però quasi tutto di ciò che è stato detto oggi di ciò che i radicali dicono da tanti anni e in effetti oggi sono stato chiamato qui sono stato solicitato di intervenire proprio da salvatore valore il figlio di un mio cliente signor Ciro valdone che è stata da oltre un anno vittima della carcerazione preventiva e quindi è una di quelle situazioni concrete di quei casi specifici nei quali ciò che è stato magistralmente esposto oggi e che ho visto scritto in questo libro di Annalisa Chirico libro che ho sfogliato non ho ancora letto ovviamente e per me anche il problema del giusto processo il problema dell'abuso della custodia condelare il problema serio del nostro ordinamento quindi condivido tutto e manifesto anche la disponibilità anche le stuporenze per le tese vittimane di collaborare a fare qualcosa anche eserciturale su questi punti già la Camera di Napoli è molto attiva in particolare poi sulla questione della prescrizione della quale pure si è parlato oggi venendo ai temi più tecnici il giusto processo e sulle calpevare bene sulla prescrizione dell'amnestia in effetti io credo che le posizioni devono essere un po' più più articolate perché è inconcepibile quando esiste una parte spesa che è un processo sfumido della prescrizione e alcune volte poi più dello strapotere del pubblico mistero ci timoresce l'inerzia del pubblico mistero l'assenza di controlli sull'inerzia del pubblico mistero e questo dovrebbe essere uno dei punti anche sui quali approfondire i dibattiti appunto sull'obbligatorietà dell'azione canale che nasce come corollario del principio di eguaglianza l'anipatto di questo marasmo nel quale tra i migliaia di procedimenti attirati in ogni piede non si sa qual è quello che passa prima qual è quello che muore in un cassetto l'obbligatorietà diventa un documento inattuale sulla questione di difesa e di ufficio nella quale parlava Francesco Gionta effettivamente non condivido il fatto che tutte le difese di ufficio siano pessime c'è una giurisprudenza delle corte europee anche su questo sulle difese di ufficio al caso attico degli anni Ottaglio ci sono stati numerosissimi altri casi però ci sono anche molti processi di difese ufficio che sono effettive non è quello il punto e credo che comunque le associazioni di un volontariato possa indicare un difensore di fiducia non c'è bisogno di modificare radicalmente quella normativa in effetti poi i temi dei quali si è parlato oggi sono veramente tanti quindi punti di riflessione sarebbero molti ma non si possono ovviamente affrontare in questa serie sulle condizioni di detenzione e l'utilizzazione della storia cautelare o del carcere duro come forma di tortura discussi il caso Enea contro Italia davanti alla grande Camera della Corte Europea di Roma nel 2008 caso depositato nel 2000 anche la Corte Europea prende i suoi tempi nel 2008 discussi davanti alla Gran Sciamore della Corte nel 2009 ottenemmo la sentenza condanna dello Stato per l'articolo 8 sulla vita privata e familiare per la questione della censura e il visto di censura della corrispondenza condanna per quanto riguarda l'articolo 6 sul giusto processo non passò invece all'articolo 3 cioè la tortura in quella serie cercavo di portare avanti una nuova definizione di tortura la Corte Europea distingue tra tortura e trattamenti inumani degradanti a seconda della gravità della violazione le convenzioni invece delle Nazioni Unite quali viano la fattispecie di tortura come quella condotta possedemessere l'autorità al fine di esforcere una confessione una relazione ebbene 17 anni in 41 bis soltanto perché non diventi collaboratori di giustizia apparivano in forme di tortura e senso tecnico e a maggioranza questa violazione non passò perché appunto per una decisione di maggioranza da Gran Sciambre il governo italiano riuscì a convincere la Corte a dichiarare che la soglia di gravità del trattamento possedessere non era tale da giustificare il declaratore della violazione e quindi ci troviamo al paradosso che colui che sta in 41 bis in un regime di elevato indice di vigilanza non è sottoposto a tortura al trattamento umano che era degradante mentre invece il detenuto comune che sta in una scelta sovraffollata è stato dichiarato che vi è una violazione articolo 3 sui trattamenti umani che è degradante se non è importante non voglio togliere troppo tempo chiudo soltanto per quanto riguarda appunto l'importanza di valorizzazione e la rieducazione del condannato che è carente evidentemente in Italia quindi partito 27 la Costituzione resta una norma inattuata sotto quel punto di vista e anche sotto questi profili abbiamo cercato di trovare a livello europeo il corpo europeo un riscontro e poi vorrei chiudere con il tema della sessualità in carcere beh in effetti in Spagna il detenuto ha diritto a un rapporto o due rapporti intimi con la propria parte e la settimana in Italia questo ovviamente non esiste tanto che molte persone che hanno un titolo esecutivo un ordine di carcerazione alcune volte scendono se si trovano in Spagna di costituirsi qua preferiscono essere arrestati e scontare a bene in Spagna rispetto in Italia ora non si capisce perché in Italia non si possa anche portare avanti questo discorso credo che i radicali noi potremmo portarlo avanti anche in questo discorso dopo il turismo per la procreazione assistita per il divorzio per l'apporto degli anni ora avremo anche il turismo per il detenuto che magari si va a costituire in Spagna che sta più tranquillo di tali 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 che il diritto alla sessualità in carcere non è solo un diritto per detenuto perché c'è una pena che stabilisce che devi essere recluso per chi costruisce un pericolo però c'è un problema anche del familiare perché il familiare la moglie o il marito di una persona condannata non a tre mesi ma a 6, 7, 10 anni di reclusione ovviamente con questa reclusione ci si trova essere condannati anche alla fine della propria maniera l'ultimissima cosa è il subraccialetto elettronico che potrebbe essere una serie di alternative in molti casi alla funzione ai popolari di carcere parlando appunto di soggetti non condannati ma i presunti innocenti i presunti non colpevoli si accoppolano i nostri penitenziati già Paolo Ungheri oppure un vicino alla posizione italiana già in 1998 ricordo un pubblico di carmai questo traccialetto elettronico il descensore esatto già Paolo Ungheri in 1998 parlava di traccialetto elettronico ebbene il ministero della giustizia spende mili anni da questi tracetti etroci e pare che sono 12 italiani che si sono stati utilizzati e questo come ha letto con il consenso del soggetto interessato potrebbe essere una altissima alternativa alla custodia di carcere quindi anche su questo sento di spezzare una mancia quindi ringrazio ancora sono tre valore che anche lui si è scritto oggi e mi ha invitato quindi di essere qui da sempre aveva ancora un lungo dolore per suo padre prezzetissimo vigile urbano presunto in bicentrista dal 19 ottobre del 2011 custodia caudelare in carcere soggetto di 65 anni arrivato a quell'età incensurato sul quale ben ripetendo il capo espiatorio della corruzione a Napoli nel settore abusivismo e vizio non accusato da nessuno per un processo che è abbastanza macchinoso insomma in questo momento si trova non viene più neanche perché è uno degli arresti non ciliani una cosa sulla quale poi promuoveremo probabilmente anche interrogazione parlamentare insomma comunque grazie ancora a tutti chiedo scusa per il tempo che vi ho sottrappato non siamo felici di avervi ascoltato guarda questo intervento mi consente anche di dire una cosa che ancora ho saltato è grave perché come io so in quanto membro della direzione dei radicali italiani che il movimento del quale faccio parte che tutti noi sosteniamo è in gravi difficoltà economico come sempre ma diciamo forse un po' di più perché abbiamo addirittura ormai da mesi il segretario e il tesoriere che non ricevono più lo stipendio perché non ci sono i soldi nemmeno per pagare loro quindi insomma noi stiamo cercando di fare di tutto affinché il nostro movimento riesca ancora ad esistere e a rimanere in piedi io quindi invito tutti quelli che possono ad iscriversi alla radicale italiana ora e a partito radicale per la stanza nazionale chiaramente ci sono tante cose insomma sulle quali potremmo confrontarci e fare delle batterie come ne sono sicuro ora quindi recupererei l'intervento di Roberto Giacquinto che lo vedo in sala che prima che non è Danilo Quinto che non voleva intervenire ma io l'avevo scritto di ufficio non voleva ah non voleva dire allora non lo intervendiamo no però siamo felici di averlo qua e allora restano solo due interventi ciao Donato salutiamo Donato Sanzano che appunto va via e abbiamo il via Foscolo e parola peruta visto che concludiamo con le donne militanti della sollezione devo assolutamente ricordare il lavoro che ha fatto Angela Miceli quest'anno che non sono riuscito a compiere a parlare stasera ma dobbiamo dire che probabilmente è stata la persona più più presente alle iniziative che abbiamo fatto alle riunioni seconda va bene poi dopo ci sta pure una sorpresa però io non farei classifiche va bene la parola a Elvira Foscolo buonasera buonasera Gira Foscolo a fare insomma questo partito da più di un anno e perché ci sono entrata perché ho scoperto che insomma il mio DNA faceva parte di questo partito io penso il partito di tutti perché va per la lotta insomma all'antibibizionismo a tutto al senso della giustizia alla libertà di cura io penso che questo faccia parte di ogni settimana soltanto chi sa per quale motivo durante il corso della vita perdi questo pensiero e ci vuole del tempo che comprende perché probabilmente comincia a mancare il rispetto di se stesso e tutto questo io lavoro a Pasquale di Napoli in anatomia patologica e mi sto interessando al famoso registro tumori perché il registro tumori è un registro molto importante per prevenire il tumore come funziona ci sono delle zone della campagna che bisogna capire cosa succede in quelle terre perché sono inquinate come la vita sociale che è anche questo importantissimo come le persone che vita fanno se sono persone insooccupate se praticamente insomma non riescono a inserirsi nella società iniziando da famigli e tutto questo è una ricerca e stavo lavorando con due medici del Pasquale per questo famoso registro tumore una cosa mentre ho spettito quale è stata e questi due medici mi dissero allora prima la zona inquinata dove sta più alto il circolare di tumore è la zona di Napoli la zona est è tranquillita parlo con altri medici che mi dicono l'opposto allora cos'è che non va che succede e questo mi ha incuriosito e quindi sono andata a parlare ancora con altre persone che non erano interessate per gli stoccoli ma lavoravano per i pazienti allora il medico che avrà che avrà la possibilità di lavorarci avrà dei soldi e non solo questo medico avrà la possibilità di prendere dei voti perché sono tutti prossimi a candidarsi portando come trofeo il registro tumore hanno fatto dei dati dati pittizi non esistono questi dati ognuno ha i suoi dati come interesse ognuno lavora su dei dati finti dove la popolazione e questi dati scusate sono dati anche perché ogni medico ha come aiuto un prete del quartiere ogni medico ha un aiuto di un prete di una patoccia quindi tutti questi patocchiali che seguono i preti senza informarsi dove sta la verità perché la verità è quello che dice il prete il prete lavora con questo medico ci sono questi accordi e quindi va avanti la bugia avanti questo il prete che dati i preti trasmettono delle dati secondo le loro zone dicono in questa zona succede questo ci sono questi rifiuti sono stati sempre lì questi rifiuti quindi si ammala tutte queste questioni di tumore attenzione si d'accordo che siamo pieni di rifiuti tossici ma le persone non si ammala di tumore perché ci sono i rifiuti tossici le persone si ammala di tumore perché non c'è la prevenzione non c'è l'informazione è diversa cioè la gente stava lavorando moltissimo su tumore ai testicoli e ai giovani perché a 20 anni ci sono tutti questi malati questi ragazzi che si ammala di tumore ai testicoli allora questi medici chi per la zona nord chi per la zona est diciamo per i rifiuti per i volvi eccetera eccetera può essere prendo le tesi di tumore ai giovani succede e può essere paradossi insomma un fatto strano ma con la prevenzione quando c'è il servizio militare dei medici del servizio militare riuscivano a capire il tempo di infiammazione dei testicoli quindi la testa mancando quel servizio è aumentato il tumore a testicoli quindi fino a che punto insomma c'è la realtà dei targi che mi sta legando mi scusate che mi sta legando insomma sull'inquinamento delle terre anche un'altra cosa ci sto sopchialando avanti in aldonea patologica mi chiamano in tutta Italia per il registro di tumore quindi perciò mi sto interessando sono responsabile per chi mi arriva tutto il tumore è insomma la mammella di 14 anni la ragazzina di 14 anni che in meno di un anno insomma muore meno di un anno c'è questo tumore aggressivo allora subito si medicina l'inquinamento quel inquinamento lo bisogna rottare chiamano tutti i cittadini i cittadini che non sono informati quindi per loro è soltanto questo ma anche il tumore alla mammella giovanile è dato perché in campagna ci sono parecchie ragazze grasse queste ragazze grasse sviluppano il tumore alla mammella allora ecco dico fino a che punto il cittadino è informato dove sta la volontà dove si può fare perché è stato bloccato il registro il tumore in campagna c'è un motivo se voi lo sto spiegando è vero è stato bloccato per questo perché ci sono dei dati che non esistono ogni medico che vuole appropriarsi di questo sta mettendo i suoi dati non sta informando il cittadino anzi lo sta portando alla guerra alla guerra perché poi cittadini del lato nord se la prendono del lato est perché non con la provinzione questa la guerra che succede la guerra perché io mi do prendo quella fetta di cittadini tu ti prenderai l'altra fetta di cittadini e in tante persone si ammanno e lui allora ho sempre pensato che bisogna iniziare a dare informazioni a lavorare su questo ad arrivare a portare insomma la prevenzione pensate che la regione campagna fino a qualche anno fa prendeva i minori soldi possibili dallo Stato per la sanità perché loro ragionavano c'è fatto che in regione a campagna ci sono pochi vecchi quindi avete bisogno di meno soldi non è perché muovono i giovani ecco un'altra informazione sbagliata non c'è popolazione anziana in campagna non è perché muovono i giovani è perché i giovani vanno via vanno via una serie di cose vanno via perché non hanno la possibilità di lavorare è sempre il mercolo sanitario ci sono molti medici molti biologi che non hanno considerato di lavorare perché sempre con l'aggiunta che c'è stata in Bassolino che prima andare via ha portato tutto quello che poteva quindi lasciando le casse con veramente quasi mute per quanto riguarda la sanità quindi un lavoro grosso da rifare per il cittadino prima andare via ha creato dei dipartimenti io sto parlando sempre del Pasquale che il Pasquale ancora si sta una bozza di ferro ancora si sta salvando immaginate insomma gli altri ospedali dei dipartimenti prendiamo ogni dipartimento c'è un capo dipartimento quindi soldi che vanno al capo dipartimento ogni capo dipartimento c'ha varie reparti quindi ogni reparto c'è un primario alla fine dove questi soldi hanno per parte bisognava toglierli quindi hanno tolto i sui posti letto allora vieni a trovare un primario per terzo stretto senza personale di supporto chiede le soldi per la ricerca fanno dei progetti per la ricerca arrivano i soldi ma questi progetti non li ha attuali cioè se seguono dei biologi parlo di una ricerca di una ricerca fish no che praticamente pure di uno stockinia che fanno dei studi specifici insomma al malato di tumore per capire la terapia adatta dopo l'esame istologico servono dei tecnici servono dei biologi allora si fa la ricerca si chiede allo stato noi stiamo facendo questa ricerca arrivano i soldi e tutto viene diviso con un giorno e dieci segretari per il pre che se ne ha vedete questi qua non c'è paura questi dieci segretari sono nipoti e avanti definiti e quindi altri soldi che vengono totti alle ricette che vengono totti al cittadino e cittadino continua a essere simili l'informazione i medici giovani stanno dando informazione e stanno lottando forse ancora non c'entrano in quel contesto di lobby se non abbiamo già avanti stanno lottando contro questi registri nuovi che stanno andando avanti in modo fictizio poi diventeranno dai carichi politici perché là tutto funziona così chi è più forte politicamente cui medico prenderà i registri di nuovo è stato certo che sarà tutto falso sarebbero ancora questi in giro qua i soldi hanno i soldi andando a queste persone che non stanno lavorando affatto per i cittadini perché se solo quei soldi li vogliono usare per la prevenzione allora sì che riusciremo insomma e vabbè prima o poi tutti dobbiamo morire come morire come morire è importante la dignità dell'ammarato la dignità dell'ammarato è importante non ci sono macchinari non ci sono letti sono costretti ad andare nelle critiche private le macchinari sono rotti caso strane macchinari della radioterapia della mammella allora una paziente che fa già la chemio per la mammella e deve stare ricoverato sotto controllo che è una paziente particolare deve andare fuori a fare la radioterapia perché al Pasquale non funziona macchinari ed è più di un anno i lavoratori del Pasquale Tecci hanno fatto molte cose in questo non ci è venuto a niente a niente continua insomma ad andare avanti questo tornare insomma a questi sogni se vogliamo veramente fare un registro su muro quindi arrivare a capire veramente la qualità della vita del cittadino dove vive prevedire alcune cose oltre l'ambiente perché siamo primi di veleno ma soprattutto la familiarità allora se noi si investono questi soldi sulla prevenzione sicuramente insomma riusciremo ad arrivare a un modo di vivere dignitoso anche essendo malati perché non ho visto malati disperati quindi poche inizierà per fortuna la cannobis della pedica in Pasquale quindi inizieranno con i pazienti aspetta un attimo perché qualche anno fa bisogna capire perché qualche anno fa passò anche a livello sperimentale la terapia di bella ma praticamente diceva gente ormai è morta respirare cioè questa è infatti questa sperimentazione su gente che si sapesse che è morta quindi non si è potuta lavorare veramente sulla terapia di bella però sono morti senza dolore questo non l'hanno fatto mai sapere queste persone che stavano in era sperimentazione di bella sono morti che non si stanno muovendo e quindi mi lascia se ormai però senza dolore in modo di mitono quindi bisogna fare attenzione anche come entrerà questa sperimentazione chi la vuole perché le case sono ormai sono molto forti c'è la gamma riscosita poco rispetto alle che mi era più io ho lavorato in campo e praticamente ogni fiala partiva dai 180 euro arrivare a decilare 100 euro che poi era scoperta dopo anni questa fiala di 10.400 euro non serviva anzi accelerava la scoperta e non solo lasciava attraverso i fogli la pelle e la reazione che erano anche pericolosi insomma per i parenti questo è scoperto dopo anni che erano fatto anni poi dopo anni che 10.000 e quale io ho caricato per l'anno con questi bambici danno conto perché non funzionava anzi peggiorava la situazione quindi facciamo l'attenzione sulla cannabis è una cosa molto delicata e non è che ci arriveremo facendo non ci arriveremo facendo perché troveranno tante insomma tante problematiche quindi si inizieranno a breve per iniziare questa cosa quindi io sto continuando in mio lavoro sto lavorando con la dirigente del Tascale che veramente tiene inizieremo insieme ad altri medici giovani un'informazione informazione al popolo che non sa cioè adesso già una cosa che successe con mia cognata che non sapeva che al Pascale se vuoi farti una visita al senologico che ha tirato le liste suonordissime e viene lo suonordissimo perché il martedì e giovedì alle 8 accettano tutte le liste senologiche possono essere considerate urgenti urgenti perché si è accettato a meta se si è superato 40 anni se si nota qualcosa questo non mi dico questo non mi dico vabbè tornando sempre a quello che ci ha lasciato Bassolino se noi adesso paghiamo 10 euro in più su ogni ricetta se anche l'ammarato oncologico non rientra più tra le patologie e per l'esenzione perché non ci sono soldi sono finiti quindi chiunque ha il paziente oncologico si deve fare delle radiografie già quando fa la radiografia si tratta di 15 da 15 ha 7 impegnative quindi 10 è una impegnativa soltanto il paziente la radiografia è un suo diritto tutto questo lo dobbiamo insomma ai politici che finora hanno versato da voi voglio insomma almeno io nel mio piccolo continuare in questo lavoro informare portare più informazioni possibili insomma per la grande Napoli portare dei dati veri perché non ci giochi con la salute del paziente perché oggi ci posso stare io un mio parente non mi vanno io devo sapere devo sapere ogni cosa devo sapere come morri devo sapere come risparmiare perché io ho delitto di essere libero nella scelta di chi mi deve aiutare devo sentirmi libero insomma di guarire di guarire e invece stanno facendo un prodotto quindi è una cosa molto da vicino non con questi medici perché ho capito insomma come ti mi sono e poi lavorare e portare i miei dati io non mi sto prendendo lavorerò ancora porto i dati vi farò sapere e poi insomma insomma insieme politicamente nient'altro non voglio scantaggio un applauso che mi è venuto qua c'era un'area tra lo scetticismo e lo stato di sciocca fino a quando mi riguarda perché ecco non è venuto nessun giornalista oggi ma solo a sentire la metà delle cose che ha detto potevano rimbire le pagine dei giornali per mesi e invece lo sapranno soltanto gli ascoltatori di Radio Radicale chiudiamo il dibattito con Paola Laperuta anche lei è una militante che quest'anno si è aggiunta all'associazione ma è stata posizione in tanto di iniziative non solo sotto il calcio di un'area brava Paola al seguito ma è stata a sentire e allora non è stato vecchia che lo scusi dunque io in genere a fianco Luigi Mazzotto a tutte le volte che si fanno queste queste lotte quindi mi diverto pure perché poi è una persona veramente che dà il cuore dall'anima ed è una persona che merita veramente l'applauso che merita perché non stanno la nostra catturità ha fatto tanto tanto perché lui è stato quello che anche da solo è andato a compartere io mi ricordo le parole di Angela di Mariangela che l'ho conosciuto giù alla sede mi dice radicali si diventa non si nasce e tutte no tutta l'amico dice si arriva e si diventa dice no l'incontrata l'amico vabbè comunque io non lo so se sono nata radicale poi sono diventata fatto sa che divido tutto tutta la politica e mi fa piacere che ho ritrovato la mia identità politica finalmente finalmente ci sono riuscita ci sono riuscita più malgrado per una cattiva esperienza molti più lo sanno io ho subito una deportazione perché io le chiamo le deportazioni questi arresti improvvisi possono arrivare a casa di più per qualsiasi motivo anche solo per fare numero perché magari il modo di fare giustizia è nelle mani di pochi e questi pochi ovviamente non avendo nessuna responsabilità civile ne abusano per fermare una persona se ne arrestano dieci per essere sicuri che queste persone comunque restano in carcere quindi non ci preoccupiamo più della persona che vive un dramma non ha importanza non si è nessuno io sono stata 35 giorni detenuta nel carcere di Bellizzi che è un carcere dove c'è l'H24 c'è il medico 24 ore su 24 vi lascio immaginare che cosa può esserci in un carcere del genere non è un carcere è un 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 falso ospedale dove ci sono donne detenute tutte malate e tutte malate donne che hanno avuto ictus donne che sono fortemente depresse donne che potrebbero veramente stare a casa e essere accudite dai familiari non da altri detenuti perché non stanno proprio nelle condizioni di affrontare una detenzione perché per affrontare una detenzione si deve essere in ottima salute perché le carceri italiane hanno schifo e tiene schifo trattato bene l'argomento dove manca l'igiene manca manca il minimo indispensabile per servizio per servizio per servizio un essere umano non c'è niente in un carcere e la cosa peggiore che si può scoprire in un carcere femminile è che teniamo detenuti i bambini nelle carceri in condizioni individuelle in bagni dove non c'è l'igiene chiamiamoli bagni dove un bambino deve essere chiuso tutto il giorno in una cella che non offre niente nemmeno di affacciarsi un bambino che vede solo donne malate depresse che fumano che lo fanno fumare perché il fumo passivo che subiscono i bambini in carcere è una cosa vergognosa perché in una cella si fuma in 4-5 senza rispetto per gli altri perché non si può rispettare l'altro perché devi stare tu sul cielo non puoi andare a fumare fuori e i bambini detenuti nelle carceri sono esposti alle malattie alle infezioni è una vergogna se questo si dice stato civile è uno stato più che criminale perché è uno stato che non rispetta nemmeno i diritti dell'infanzia quando poi esistono leggi per la tutela dell'infanzia vengono infrante in un secondo donne che potrebbero stare a casa con i loro figli perché non sono donne pericolose perché in carcere secondo me in carcere non forse essere l'estremo avanti come si dice in carcere ci deve stare chi effettivamente costituisce c'è un pericolo pubblico perché anche la detenzione domiciliare è una detenzione anzi per certi versi è anche più difficile resistere a casa perché nel carcere il tempo non passa si diventa autonico quindi è facile andare avanti in una detenzione così anche anni e anni sembra sempre lo stesso giorno non è che il tempo cambia le cose c'è un ritmo che si ripete quindi va bene non voglio mi lascio immaginare insomma da questo poco che vi ho potuto dire di che cosa può essere e addirittura mi ricordo che gli agenti della penitenziaria mi dicevano signora voi nella sfortuna siete state fortunata perché voi non li potete immaginare a Ponzoni che ci sta cioè a pensare queste cose come è possibile che una persona debba ascoltare una pena in quelle condizioni bambini che piangono giornate intere perché vogliono uscire perché vogliono giocare perché vogliono vedere altri bambini tutto questo a loro è privato e quindi voglio dire è un problema grande questo perché io penso che una mamma può stare a casa con il bambino può avere una testa allora io mi appello al fatto che non è possibile che un giudice non sappia darsi veramente un pizzico di umanità nel lavoro che fa perché si sbaglia si paga ma non si deve far diventare questo stato veramente un criminale in tutti i sensi perché vedere un bambino detenuto è la cosa più brutta che si può soprattutto chi ha avuto i figli chi ha i bambini chi vive con i bambini si può rendere conto di che stranzio può essere chiudere un bambino con la mamma in carcere e poi a tre anni questi bambini vengono tolti dalla mamma perché dopo i tre anni i bambini devono uscire dal carcere quindi è assurdo immaginare il dolore che si può creare staccare questi bambini dalla mamma dopo che sono stati chiusi là in quella cella magari entrano cioè è assurdo sono delle cose veramente che fanno pensare e dovrebbero far capire veramente in che condizioni sta la giustizia italiana questa non è giustizia secondo me poi volevo ringraziare tutti gli associati gli amici che ho conosciuto iscrivendoli all'associazione mi fa piacere scambiare l'idea con loro di fare questa attività politica insieme a loro io sono sempre presente tutte le volte mi dispiace che Luigi adesso non sarà più segretario ma io sono sicura che il fatto che si toglierà solo la carica ma poi alla fine sarà forse meglio di prima con l'associazione io concludo e ho voluto denunciare quello che poi ognuno di noi ha pensato giusto denunciare a questo microfono sulla mia esperienza personale posso dire che veramente c'è tanta gente in carcere che non merita di stare in carcere e in molti che invece meriterebbero di stare in carcere non ci stanno grazie a te grazie a Paola con questo intervento chiudiamo il dibattito generale del settimo congresso dell'assemblea degli iscritti dell'associazione radicale della Cane Napoli un po' di dati hanno preso la parola 31 persone oggi mi sembra davvero un ottimo risultato di cui 6 ospiti e 25 iscritti all'associazione quindi penso che abbiamo come ho detto nel ricorso di Mendefello tutti gli elementi per poi continuare questa riflessione io posso solo dire che appunto già la media di prossimo visto che non abbiamo abbiamo detto che abbiamo una base una cosa che chiamiamo sede che ci costa 100 euro al mese sta in vivo San Geronimo alle Monache in piazza vicinissimo piazza come San Domenico e quindi il venerdì ci vediamo e invitiamo tutti a partecipare perché già da venerdì il prossimo ci sarà un incontro importante anche per i nuovi iscritti insomma per iniziale il nostro anno politico ora abbiamo come ho detto prima abbiamo una mozione generale e altri documenti presentati però prima darei la parola al segretario che intende replicare per qualche minuto e quindi appunto diamo la parola a Luigi Mazzotta bene ragazzi allora stavattina io avevo detto che volevo fare un secondo intervento nel pomeriggio riguardo un po' la situazione generale della nostra politica italiana e avrei voluto anche parlare un po' del movimento di radicali italiani anche perché io poi non essendoci stato a congresso insomma due paroline volevo spenderle ma non lo farò stasera lo rinvierò al primo comitato che faremo a gennaio semplicemente per dire che certo io stavattina nel mio intervento ho avuto ora anche la conferma della grande crescita politica che ha avuto questa associazione perché ascoltando i vostri interventi mi sono reso conto che voi avete una grossa intelligenza politica ma siete riusciti in questo perché siete stati dei militanti non avete partecipato in modo diciamo esagerato alla militanza ma vi è bastato quel minimo per dimostrare con i vostri 5-10 minuti che avete avuto a disposizione la crescita della nostra associazione per cui io credo che noi già a breve dico da subito faremo delle cose ancora più importanti rispetto anche a quello che abbiamo fatto quest'anno continueremo le nostre partagli e faremo in modo di dare veramente una grande dimostrazione a livello nazionale del nostro modo di concepire la politica ascoltando gli interventi anche di di Borrelli del rappresentante del Sede certo insomma gli interventi di Borrelli lo vogliamo criticare però secondo me possiamo fare una critica costruttiva perché voi non credo che insomma corretti avreste voluto sono avreste voluto di parlare male di dedicati eh non credo è stato ma perché io sono sempre aperto al dialogo e guardate che l'apertura al dialogo è la cosa più fondamentale per la democrazia noi purtroppo non abbiamo avuto una maggioranza politica di governo abbiamo avuto una crisi ma perché perché c'è il totale rifiuto di volere aprirsi su tematiche in generale perché ci sono poi i punti in comune dove ci si può confrontare e portarli avanti e quindi anche vincere la nostra battaglia perché noi lo sappiamo che noi le battaglie non le vinceremo mai se non avessimo un dialogo anche con le altre forze politiche certo la nostra caratteristica è quella che noi proponiamo la nostra rivoluzione liberale i nostri dei quando loro vengono da noi e allora significa che sta andando benissimo no Fabrizio la maggior parte dei ritori italiani sono detenuti per carissimi reali questo è un falso storico e numerico quindi scusate se io parlai di carcere magari avete ragione Noi dobbiamo sempre far capire alle altre forze politiche che pur essendo un piccolo movimento noi le cose le facciamo le portiamo avanti poi vinciamo perdiamo ma cosa che ci interessa l'importante è che noi le battaglie le dobbiamo sempre condurre e con i nostri metodi quelli della trasparenza quelli della legalità quelli dell'autofinanziamento io non me la sento di parlare male degli altri io non sono abituato a parlare male degli altri e sono stato molto contento veramente di dell'onoribile Papa del senatore compagna con molta semplicità loro sono riusciti ad esprimere il vero senso della lotta politica si sono iscritti di nuovo alla nostra associazione insomma questi sono dei meriti che ci prendiamo tutti quanti non è che me li prendo sovrini ci mancheremo e voglio ora concludere dicendo che noi continueremo queste grandi battaglie di cui voi avete posto su questo palco siete entusiasti e questo è un è un fatto veramente bello vedervi convolti non stanchi ma sempre pronti a riprenderci e a proseguire questo nostro percorso di crescita che voglio augurarmi davvero ci possa portare minimo ad un raddoppio l'anno prossimo ma non solo degli iscritti un raddoppio di crescita politica un raddoppio attraverso i nostri laboratori di di grande essenza io sono stato molto emozionale nella giornata di oggi non voglio dire più credo che tutto quello che c'era da dire l'avete detto voi vi ringrazio e ci vedremo tutti quanti molto presto voglio semplicemente ricordare i dati di oggi riguardo la situazione degli iscritti oggi si sono iscritti alla nostra associazione 13 militanti due iscritti 2012 erano due nel 2012 ora siamo 13 va bene e questo è già solo oggi sono 13 e quindi già è un numero che ci consente di andare di andare e lanciarci arrivederci ecco adesso ci sarebbe la replica del tesorire subito dopo l'affrovazione del bilancio quindi a questo punto accorpiamo un po' le cose il tesorire ci presenta anche il bilancio dell'associazione che è importante inizia a diventare importante nelle nostre forze e poi avremo la fase della illustrazione della mozione e il voto sulla mozione e gli altri documenti che sono stati presentati e poi dovremo votare per il rinnovo delle cariche a questo proposito devo dire che per un disguido non abbiamo qui con noi le schede che avevamo predisposto per il voto segreto delle cariche il regolamento all'ultimo articolo prevede che sia possibile allora l'artigo 7.1 dopo l'approvazione dell'emozione si procede all'elezione contestuale successiva del tesorire del segretario del presidente ciascun congressista è scritto vota con scheda cartacea o con voto valese sul proposito del presidente in assenza di obiezione vi devo dire che io sono stato sempre contrario con voto valese quando non c'era nessuno che obiettava ero io quindi trovarmi a dire da presidente votiamo con voto valese ma insomma è una proposta che non bisogna di fare quindi possiamo Giuseppe ecco prima ho detto che nell'ombra lui lavora eccetera che già sta preparando dei fogli di carta delle schede scusiamo magari per il disagio però comunque diciamo le stiamo preparando le schede perché è meglio se non credo garantisce tutto no ma non avevo pensato di farlo però mentre lo dicevo ho detto no ma come è possibile non posso da presidente dimenticarmi quello che ho sempre fatto da militante quindi non faccio la proposta facciamo le schede inteso chiede che siete ascoltate a casa o scriverà presidente segretario 20-30 volte e intanto ci illustra ah e intanto a questo punto dico anche i progressisti iscritti presenti qui oggi all'assemblea sono 37 mi sembra un buon numero e do la parola a Roberto Conti allora buonasera tutti i buoni vi presento prima il bilancio e poi la mia replica allora il bilancio voi avete le cartelline il bilancio generale e vedete addirittura il registro di cassa sul bancone che potete vedere praticamente tutti i movimenti della cassa perché è di quest'anno vi voglio segnalare alla voce altre spese che è una voce diciamo quella più alta dall'altro e perché diciamo in realtà ci sono noi abbiamo organizzato sia delle feste per esempio per l'autofinanziamento che non era diciamo non erano diciamo comunque materiale per iniziativa politica in modo diretto o di propaganda molto spesso anzi non è stata fatta proprio un propagandio in queste feste diciamo era proprio autofinanziamento e una volta abbiamo sempre usciti anche creare un evento culturale ho un segnalo come diciamo nel mio intervento di prima che uno diciamo una delle voci di altre spese in particolare l'ultima festa di adobinanziamento nella quale è stata fatta anche lo spettacolo musical ispirato dalle canzoni di Fabrizio di Andrei e con tematica radicale abbiamo dato diciamo ricavato direttamente al fioruomo solidale per la questione di piram da aprire poi ovviamente sono disponibile per tutte diciamo i chiarimenti qualora ci fosse la notte di rubi sul bilancio tra l'altro vabbè diciamo la nota politica del bilancio è che rispetto all'anno scorso le voci cioè il tutto si è moltiplicato si è raddoppiato però non tutto dovremo fare attenzione per esempio con il contributo di raccolta tavoli l'anno scorso ne abbiamo raccolti 436 ai tavoli quest'anno 603 considerando che il bilancio in generale si è raddoppiato questa voce è perfumante cioè ai tavoli abbiamo raccolti praticamente in proporzione molto poco molto meno di quello che non rispecchia la crescita del bilancio né degli iscritti né della militanza perché comunque è stata fatta molta attività pure altre voci interessanti vabbè le quote degli iscritti perché per forza diciamo adesso con i due nuovi iscritti siamo arrivati 2080 quindi siamo proprio il doppio rispetto all'anno scorso i contributi dei sostenitori della situazione è anche abbastanza alto e ecco una voce sicuramente con diciamo con un po' di orgoglio che è molto alta e sia quella diciamo che è un senito dove è un senito diciamo queste feste che ci siamo invitati grazie soprattutto anche a lui di Maria Angela Pisano e diciamo anche con riferimenti anche culturali e poi anche diciamo l'iniziativa politica perché noi per esempio riguardo se noi guardiamo logistica 858 euro di uscite che sono soprattutto relative al pullman affittato all'occasione del 25 aprile la marcia per la amnistia anche da quella marcia nonostante tutto siamo riusciti a fare un po' 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 di autofinanziamento che però era un'iniziativa politica e quindi tra le entrate tra le maggiori di quest'anno anzi è l'entrata maggiore è la voce iniziative e materiali di propaganda quindi diciamo tutte queste cose che ci hanno portato 3179 euro che non è una cifra da portare visto che c'è quasi metà del nostro bilancio io non mi sento ancora di altre cose rilevanti del bilancio logistica altre spese ma beh ci sono tante altre cose in realtà da sottolineare per esempio che abbiamo comprato un programma per gli indiriziali per esempio che abbiamo registrato il codice fiscale dell'associazione anche questo in altre spese l'affitto locale che soprattutto riguarda diciamo l'assemblea che abbiamo fatto il congresso dove ho già inserito le spese di oggi e di più però ci sono le spese della Sese che sono praticamente quasi pari a quelle lì che sono le spese più l'anno del fuoco diciamo che sono pronto diciamo all'anno scorso sono 200 perché l'anno scorso erano 200 perché l'abbiamo affettato per due mesi diciamo poi il resto in realtà potrebbe anche essere maggiore perché voglio anche sottolineare questa cosa tra le varie cose diciamo i militanti molto spesso non hanno mai preso quasi mai preso rimborsi in particolare lo so in particolare Luigi Mazzotta non ha mai preso un rimborso e anche Rodolfo Piagli però posso dire che lui ha una cosa se non di delle spese un po' più alte e e quindi diciamo è stato comunque con una collaborazione diciamo un segretario di facilità colline che non si prende dei ricorsi il prossimo segretario dovrà arrivare da questa buona questa cosa allora niente io chiuderei la fase del bilancio e vorrei diciamo politicamente dire due cose non sentirò tutto di quello che ho consegnato che verrete non dirò era un po' forse uno vabbè non volevo rispondere all'esponente dei verdi in realtà io stamattina ho venuto con tutt'altra diciamo altro sentimento rispetto ai verdi visto l'annuncio di ieri della rosa del pugno dell'idea ecologista quasi diciamo magari i verdi non è io non voglio dedicare assolutamente i verdi va bene l'apertura di Luigi assolutamente però sia nel rifiuto sia nell'accettazione il pregiudizio non va mai bene l'unico modo per sconfiggere il pregiudizio le xenofobie per avere un rapporto laico tra di noi è la conoscenza lo studio la conoscenza che è in fondo amore e passione e noi così solamente sappiamo fare politica l'abbiamo dimostrato e non dobbiamo certo dobbiamo dimostrarlo ancora noi stessi soprattutto però è così che facciamo politica e quindi invito diciamo chi ma chi non ci conosce di venire anche nel nostro buco e magari di seguire anche il nostro spazio sì magari il nostro spazio anche solamente il nostro spazio virtuale anche solo il nostro spazio virtuale no bellissimo però politica invece all'esterno il Papa si è lasciato andare di nuovo a delle dichiarazioni molto simpatiche stavo pensando che a questo punto le vostre campagne rispetto all'otto per mille rispetto alle spese del Vaticano rispetto a tutto questo lasciamo io direi di proporre il raddoppio di raddoppiare anche di raddoppiare di dare più soldi al Vaticano però però come si fa con gli stati di Sio del Vaticano comunque che ha sovranità come si fa con gli stati del terzo mondo cioè gli si dà dei soldi degli aiuti e si promuove però si promuovono dei diritti per esempio in qualche mese fa Cameron aveva diciamo condizionato gli aiuti alla Tanzania sulle politiche per esempio per i diritti degli omosessuali e non possiamo fare noi anche con il Vaticano noi gli paghiamo tutto non non dico di loro non devono promuovere i diritti omosessuali ma si devono impegnare a non promuovere l'odio che tra l'altro rappresenta noi che parliamo di legalità loro parlano di peccato rappresenta la loro legge non promuovere l'odio rappresenta la loro legge quindi io vorrei una proposta seria serissima tra l'altro io in Tantania ci ho vissuto e il Vaticano i cattolici ma anche tanti altri cristiani sono lì da molto tempo da moltissimo tempo e guardate guardate che nonostante nei villaggi ci siano delle chiese di pietra da tempo gli albini per esempio vengono ancora calciati per fare degli amuleti vengono ancora trucidati con le braccia le pietra e si fanno degli amuleti con gli albini in Africa allora i cattolici cristiani ma anche i musulmani diciamo sono riusciti a convincere diciamo della bontà del monoteismo della vergogna del politeismo delle loro religioni ma non sono riusciti per esempio a dependare diciamo a un fenomeno di superstizione così semplice invece io vi assicuro che ogni tanzariano parla con vergogna del loro passato politista però degli albini ancora se voi siete interessati che è la città principale vi spaventerete per la quantità di albini perché nei villaggi non ci possono vivere gli albini vengono cacciati cacciati proprio cacciati come gli animali quindi diciamo io penso che sia una possa essere una cosa chiudo con l'ultima cosa visto che comunque diciamo ormai diciamo molti di voi già sanno diciamo come la penso rispetto ai punti fondamentali che ne so i diritti civili l'integrazione sono i miei punti fondamentali la lotta a tutte le xenofobie un punto solamente volevo ricordare a noi radicali che qualche volta l'hai sentito voglio ricordare che il problema degli omosessuali cioè della mancanza dei diritti in Italia di omosessuali non è solamente la sessofobia la sessofobia è un punto focale assolutamente focale ed è importantissimo ma c'è anche xenofobia assolutamente la xenofobia non escludiamola perché per una lettura nostra radicale cerchiamo di trasportare tutto sulla xenofobia che in qualche modo è una corretta cultura del sesso della sessofobia della xenofobia sì 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 ma io sto parlando rispetto alla comunità LGBT no volevo semplicemente ricordare questo sono contentissimo della presenza di Laura che ci ha portato la testimonianza rispetto alle politiche di Sinti voglio ribadire chiudo qui il mio entusiasmo per la rosa del pugno e qualcuno dei dei miei compagni già sa che da da tempo io sono risalto stamattina con il simbolo con la spilletta non me lo sono mai tolto lo devo a un regalo di due anni fa quando sono preso la prima tessera dei radicali italiani il regalo quello che dice Domenico Foscolo grande Mimbo grazie che non c'è non c'è la sua c'era il vino appunto la sorella che non c'è non c'è la voglia e allora voglio dire l'ultima cosa un secondo solamente è finito quel simbolo a me emoziona tantissimo per tanti motivi vorrei fare un parallelismo a tutto mio molto personale perché gli altri motivi voi li conoscete tutti e ricordavo anche l'ultimo intervento allo scorso congresso il risultato del fiore è una rosa però a Napoli io dico che può anche diventare una ginestra e voglio ricordare perché una ginestra non solo è gialla come noi ma la ginestra come diceva Fardi nulla ver detraendo cioè senza nascondere la verità anzi amandola ricercandola in contesti anche disperati come quelli di adesso o quelli del Vesuvio come ci ha ricordato Levi noi in questi contesti così come nei contesti difficili drammatici delle carceri italiane abbiamo avuto la forza di essere non violenti laici propositivi grazie 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 ah c'era il mio nome di spedire mi devi dirci l'infinito di Leopardi no no leopardare leopardato se neanche comunque allora quindi non so se vi siete fatti convincere dal nostro tesorino però intanto ci sarebbe il bilancio da provare ah quindi esatto facciamo entrare anche gli altri perché poi ci sarà la lettura della mozione generale il voto sulla mozione generale la mozione particolare e la raccomandazione certamente quello si fa apposta va bene mentre rientrano gli altri che facciamo il taglio va bene allora giusto una sorpresa per il pubblico il nostro segretario ci aveva detto che insomma avrei in mente qualcosina per goliarti caesano per lasciare facciamo sta cosa guarda la ma famiglia per il peccato che non abbiamo ah no abbiamo anche la videocamera di Liberi TV che sta riprendendo questo momento allora mentre appunto rientrano un po' di amici per votare il bilancio a questo punto passo direttamente la parola di Luigi allora va bene allora ci sta Luigi o no se no ecco stavo semplicemente facendo dunque allora io voglio invitare qui al tavolo Angelina Micelli Domenico Foscolo e Francesco Tramontano lì Tramontati mi siete qualificati e voglio consegnare un piccolo ricordo del vostro segretario è che io mi sono sentito il dovere insomma di dimostrare a tutta l'associazione che attraverso un semplice una semplice targa è più che oro è più che oro è più che oro ed è la targa dei tre militanti di quelli siete stati tutti in braccia siete stati tutti favorosi ma Francesco Tramontano sono tre anni che non mi ha mai mangiato un ansimo come farei a non farci un pensiero cioè anzi è poco Francesco quello che ti sto facendo è più che giovedì abbiamo trascorso nel centro storico dalla mattina alla sera raccoglito dei film musulmani per il vizionismo da Fosco mentre Davide Valdini poi provvisamente cominciava a preparare questi suoi lavori artistici fuori di Marivana nello Gesù più Maria è Angelina Miceli che quest'anno è stata ma la riscoperta più bella secondo me di questa associazione perché Angelina ha dimostrato veramente l'essere radicale lei non aveva non si era mai iscritto a nessun partito politico e neanche associazione per cui ha dimostrato proprio attraverso la militanza l'amore che ha avuto per noi e per il partito radicale per cui io ti premio vieni ti premio a camminare con le vostre gambe e spero che il futuro del nostro no al microfono vieni al microfono un attimo un ringraziamento un ringraziamento qua c'è la targa eccola qua grazie a tutti ancora ce l'abbiamo fatta per far parlare Angela eh vai Angela Angela sul fondo Domenico grazie a tutti grazie domenico grazie domenico grazie a tutti 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 quante volte Francesco ha fatto anche la segna stampa ma quanti soldi ha spinto Francesca domenico 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 avvicinandomi a qui hai detto questa te la faccio pagare la pagata lui la pagata lui domenico ha pagato lui allora io voglio ringraziare tutti ringrazio Luigi per la targa la prima targa che diceva in vita mia oltre quella dell'automobile ha avuto una targa voglio però a questo punto ne approfitto per dire una cosa ieri no, terza notte ho letto una bella notizia ho letto che forse ci sarà una cosa in pugno e allora mi ricordo voglio ricordare la Fallaci che ha detto ci vuole molto coraggio a combattere stringendo una rosa e basta Francesco Ramondano dai facci un saluto anche tu così ascoltatori di Radio Radicale ascoltamate la tua voce con tutti quanti ci ho trovato bene con tutti quanti ci ho trovato bene per molti anni una con luce addirittura grande Francesco ti ringraziamo allora cerchiamo di darci un contegno un ringraziamento a tutti perché io nell'associazione ci sono solo da un anno ho conosciuto tanti tipo tante tipologie di persone alcune simpatiche altre no con molte ci ho litigato con altre ci siamo su scambio di cortesie ora ci siamo litigati e poi abbiamo fatto scambio di cortesie ci siamo frequentati ci siamo frequentati però quello che è più felice di aver imparato molto mi piace essere manovare di questa associazione e poi lo diciamo in Italia un amico ha detto forse volevi fare l'operare e a lui ne aveva tutti torti e il nostro attuale segretario grazie 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 sono tutti massonici ma proprio di no 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 va bene allora finalmente rafforiamo questo bilancio qua abbiamo proposto un ordine di lavori che già dovevamo stare a farci la pizza ma ci piace evidentemente di essere calciati per il terzo anno consecutivo dal terminus quindi cerchiamo di essere veloci perché dovremmo anche appunto avere allora il bilancio che è stato distribuito e che ha illustrato Roberto Caudioso chi è favorevole per l'approvazione del bilancio può alzare la madre chi è contrario a questo bilancio e chi si astiene ok quindi approvato all'unanimità a questo punto dobbiamo passare alla lettura della mozione generale che ha prima film a Giuseppe Alterio e ce la leggerà lui appunto e poi ci sarà la discussione la otra è ver Generica la mia felicità la mia giusta ha una è del 15 dicembre 2012. L'Assemblea degli iscritti dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli riunitasi in sessione annuale ordinaria a Napoli presso l'Otel Terminus il 15 dicembre 2012. Udite le relazioni del segretario e del tesoriere e le approvo. Vista la mozione generale di radicali italiani approvata all'undicesimo congresso di Roma e la mozione generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, approvata al 39esimo congresso di Chiangiano e Roma, le fa proprie, valutando come obiettivo il metodo della propria iniziativa politica il Statiagria per la legalità e il diritto delle istituzioni e la rivolta non violenta, gandiana, sociale, politica e morale. Confermo la piena adesione dell'Associazione Radicale Italiana per l'anno 2013. Ringrazio gli ospiti e i cittadini intervenuti all'Assemblea per la straordinaria partecipazione. Il segretario, il presidente e i tesoriere uscenti per il lavoro svolto. Gli iscritti, i militanti e i sostenitori che con il loro impegno personale ed economico hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati per l'anno 2012, contribuendo alla crescita del laboratorio politico, liberale, liberista, libertario e dell'area napoletana metropolitana di Napoli. Gli oltre mille cittadini campani che hanno alimentato i presidi davanti al carcere di Poggio Reale, anche sottoscrivendo l'appello per l'amministia sul cui vi ho redatto dal professor Pugiotto e promosso dal partito radicale. I partecipanti della marcia del 25 aprile 2012, i detenuti e i loro familiari che partecipano alla lotta non violenta hanno sostenuto l'iniziativa di Marco Pannella per il ripristino della libertà. Ringrazio gli oltre 3.000 cittadini campani sottoscrittori della petizione contro le mafie della droga proibita, a sostegno della proposta di legge 2641 per la depenalizzazione della coltivazione domestica di cannabis e per la riduzione del danno. Saluta l'approvazione alle commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera in data 11 dicembre 2012 della risoluzione promossa da radicali italiani per rendere effettivo il diritto di voto delle persone detenute. Saluta l'approvazione alla Camera dei Deputati in data 4 dicembre 2012 del disegno di legge di adeguamento dell'ordinamento italiano allo Statuto della Corte Penale Internazionale che permetterà finalmente anche all'Italia con un ritardo di 13 anni, la versione che avete porta 14 ma alla sottoscrizione è stata corretta con 13, di cooperare con la Corte nelle sue indagini e azioni giudiziarie. Ringrazio l'associazione Non c'è pace senza giustizia e la sua fondatrice Emma Bonino per l'impegno propuso in tutti questi anni per la protezione e per la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e della giustizia internazionale. Tutto ciò premesso l'Assemblea degli iscritti impegni è compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche e organizzative. Gli organi dell'Associazione ha promuovere e sostenere i seguenti punti non riperderò sempre promuovere e sostenere ma diamo le smontate. Il raggiungimento degli obiettivi programmatici della mozione generale approvata in occasione dell'undicesimo congresso di radicali italiani è ad essere parte a titola della campagna istruzione per l'anno 2013 a radicali italiani, al partito radicale non violento transnazionale e transapartito e agli altri soggetti dell'area radicale. Le campagne riferendarie promosse da radicali italiani e dagli altri soggetti dell'area radicale. Le liste elettorali espresse dai soggetti dell'area radicale in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali. La lotta per l'amnistia e l'indutto. La depenalizzazione dei raggi minori e la riforma della giustizia per ristabilire la legalizzazione della società costituzionale nei tribunali e negli istituti penitenziari, contrastando l'obbligo della custodia cautelare in carcere per ridurre e eliminare il divario che separa l'Italia e il resto dell'Europa in materia di ricorso alle misure alternative con l'applicazione della detenzione domiciliare e l'introduzione dell'istituto della messa alla prova con sospensione del procedimento, anche per gli adulti. Il monitoraggio delle strutture carcelarie attraverso visite ispettive degli istituti penitenziari campani per dare concreta, piena ed effettiva attuazione a quel principio sancito e riconosciuto dall'articolo 27 della Costituzione, in base a quale la pena deve sempre tendere alla rieducazione e al rinsedimento sociale. Le iniziative antiproibizioniste sulla droga, mediante dibattiti pubblici e petizioni proposte di legge e referendum per la posizione della legge fin giovanale, la depenializzazione dell'uso personale di sostanze superfacenti e della coltivazione domestica dell'uso personale di piano e dalle quali si possono estrarre sostanze stupefacenti e psicodrome. L'approvazione di una legge regionale sull'erogazione della cannabis terapeutica per garantire l'attuazione del principio di tutela della salute e della libertà di cura. L'istituzione della città metropolitana di Napoli, vigilando affinché a segnito dell'approvazione della legge 135 del 2012, che recita il titolo di istituzione delle città metropolitane e soppressione delle province, l'attuazione dello statuto provvisorio che dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2013. Perché l'attuazione dello studio provvisorio che dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2013 si è ispirato, quanto più possibile, ai principi della ecopolitana che il professor Aldo Lores Rossi, già presidente dell'Associazione della Grande Napoli, ebbe a teorizzare come strumento indispensabile per progettare, orientati da una visione euro-media in Rania, un disegno urbanistico che riduque il rischio vesuvio e consenta di attrarre risorse umane e finanziarie indispensabili alla riqualificazione del territorio e allo sviluppo sostenibile a partire dall'area vesuviana e dei campi impregali. La possibilità per i cittadini di accedere liberamente alle informazioni ambientali, l'attivazione dei registri di patologie previsti dalla legge e la denunzia della strage in atto ai danni del popolo napoletano e campano, per il drammatico incremento delle patologie tumorali provocate dallo sversamento e dall'incendio di rifiuti tossici e speciali in discariche legali e illegali e dal conseguente inquinamento del suolo e della catena alimentare. Il monitoraggio delle attività poste in essere dalle istituzioni locali e nazionali relativi alla problematica dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione come parla. La lotta per la trasparenza e la partecipazione politica, continuando il monitoraggio dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati del Comune di Napoli e della regione Campania, organizzando iniziative per diffondere la conoscenza di questi strumenti ottenuti innanzitutto grazie all'impegno dei militanti dell'Associazione. La campagna di Nessuno Doppi Gaino per l'attuazione della risoluzione dei suoi lavoratori della pena di morte, approvata dalla Segla Generale di Romano, l'istituzione del registro dei testamenti biologici presso il Comune di Napoli per garantire l'attuazione del principio della libertà della persona e della sua piena dignità e autodeterminazione, continuando la lotta per la legalizzazione dell'eutanasia. L'affermazione dei diritti civili e l'autodeterminazione morale, sessuale e civile in una visione responsabile e libertaria, promuovendo politiche mirate a contrastare le xenofobie e la sessofobia. La regolamentazione della prostituzione, in contrasto con il pirizionismo, favorendo una cultura della responsabilità e della libertà sessuale. I diritti di cittadinanza dei migranti, ispirata allo Ius Soli per l'abolizione del reato di clandestinità, il monitoraggio e la chiusura del Cine, per il rispetto dei tempi di rilascio dei permessi di soggiorno e promuovendo con tutti i mezzi l'integrazione culturale e religiosa. Il monitoraggio delle condizioni delle comunità Roma essenti nel Comune di Napoli e provincia, vigilando affinché le istituzioni adottino soluzioni rispettose della legalità costituzionale, dei diritti previsti dalle norme europee, che oggi condannano la creazione di campi etnici e mettono a disposizione fondi per la creazione di strutture abitative che sono poco e male utilizzate. Le tematiche radicali in materia economica, attraverso iniziative di partiti pubblici, promuovendo le liberalizzazioni e le privatizzazioni in tutti i settori sociali che non siano strategici e l'abolizione dei monopoli degli oligopoi per favorire la libera concorrenza. Il rispetto delle regole da parte della RAI, concessionaria del servizio pubblico di informazione, innanzitutto attraverso il ripristino delle tribune politiche sorpresse contro la legge da quasi cinque anni. La capacità militante dell'Associazione verso i comuni della provincia di Napoli, potenziando i positivi esperimenti fatti nell'anno trascorso attraverso l'organizzazione di tavole di raccolta, firme e informazione nelle periferie della città e in diversi comuni di Soliani e Fredrei. Il potenziamento e il miglioramento delle strutture utilizzate dall'Associazione, sito internet, social network, canale YouTube, utilizzo di videoconferenze per la partecipazione alle riunioni, per favorire la conoscitività delle iniziative in corso e la messa in opera del software per attivare e gestire le informazioni acquisite attraverso campagne di raccolta firme. Non per ultimo la ricerca di una nuova sede che sia più funzionale alle attività dell'Associazione. L'Assemblea fissa la quota associativa minima per l'anno 2013 in Euro 25. La mozione presentata è stata scritta da cinque iscritti all'Associazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. ovviamente è scaduto, all'ora 19 eravamo anche, insomma, prorogati, era stato richiamato, diciamo, il Presidente è stato richiamato in termine per la presentazione e per gli ammigamenti, se tu ci vuoi fare una raccomandazione, vediamo la raccomandazione. Però è scaduto, per te posso dare le raccomandazioni, certamente. Vuoi parlare, comunque, allora, il regolamento a questo punto, visto che Giuseppe considera, diciamo, il credito ordinato, attraverso la lettura e l'illustrazione della mozione, no, c'è la possibilità di parlare a favore e contro per un tempo e per un numero di persone che è a discrezione del Presidente, quindi, diciamo, Emilio, 30 secondi a favore. Vuoi intervenire contro, che ne so, una dichiarazione di astenzione che magari con la voti pure la mozione, però comunque, insomma, con questa strategia, ma puoi dire, almeno per lasciare testimonianza di quello che volevi emendare. Benissimo, allora, io voglio fare il ripetimento proprio all'appunto sulle iniziative di privatizzazione e liberalizzazione in tutti i settori sociali che non siano strategici. Io direi di sopprimere questo che non siano strategici, questa era l'idea originaria, a questo punto, insomma, di... lasciamo traccia di questa critica perché il che non siano strategici risulta un po' ambivo, non intituando bene o allargato a dismisura o diminuendo allo stesso tempo poi in maniera troppo stringente, magari facendo riferimento soprattutto alle liberalizzazioni se non alle privatizzazioni. Insomma, questo è un punto che secondo me andava visto meglio. Grazie. E quindi, in un assoluto, sono d'accordo, ne terremo conto perché giustamente mi sembra una giusta potenzione. Quindi Emilio Martucci, quale è a favore? No, per i ragazzi, è una nozione più impegnativa di quella che ho sentito, adesso mi canta l'italiano. Alessandro, ma io, buon lavoro, eh? Buon lavoro, eh? Ah, bella, in cinque secondi ce l'abbiamo fatta. E allora, penso che la possiamo votare. Se mi ha finito la mia cosa. Scusate, ma qua siamo... Ma lo so, c'è qualcuno che mi si è appriso adesso. Allora, chi è favorevole alla mozione illustrata da Giuseppe Artero può alzare la mano, adesso la potete passare. Chi è contrario? Nessuno, chi si astine? Nessuno. Anche la mozione è provata l'unanimità con una condotta bulgara oggi. a dir poco, no? Cioè, nel minimo quel poco di dissenso radicale che più o meno ogni tanto ci sta. Va bene, allora, andiamo avanti. Ci sta la mozione particolare presentata da Franco Levi. Franco, la possiamo dare per illustrata e la votiamo subito? Sì, spero, spero, per la azione al più presto della pratica. Nella pratica ci sta il capone, cannone, faraone, insomma, sarà un bello casino, ma noi conteremo sempre che sia una interpretazione autentica di quello che, insomma, tu potrai darci. Però ci siamo. Va bene, allora a questo punto la voterei. Chi è a favore della mozione particolare di Franco Levi può alzare la mano. uno, chi è contrario, chi si astiene, ah, Roberto Giangelo, si astenuto. Due, ah, due astenuti, anche Guido, si astenuto e quindi la mozione è approvata. La mozione particolare di prima firma Franco Levi. Poi abbiamo la formazione di Paolo Preccia, che in questi casi non so se la dobbiamo mutare, però non ho capito, non mi sembrava chiaro il regolamento alla lettura di chi dovesse accettare il suo tipo di raccomandazione. Io ve la leggo. La raccomandazione è questa. Si impegna gli organi dirigenti a fornire al costituendo circolo di nessuno doppio carino di ogni strumento di azione politica nella disponibilità dell'associazione radicale. radicale per la candidata. A fornire al costituendo circolo di nessuno doppio carino ogni strumento di azione politica nella disponibilità dell'associazione radicale per la candidata. Insomma, mi sembra... Purtroppo Paolo qua lo c'è, per chiarirci il senso di questa cosa, però letteralmente potremmo... Vai, vai. Bene, bene. Il concetto che Paolo, purtroppo, lo abbiamo sempre dovuto allontanare, diciamo, quello che mi ha indicato il senso della raccomandazione era quello di, visto che, diciamo, la cellula di nessuno doppio carino che si sta... che oggi si è concronizzata, diciamo, a Napoli, a mio avviso l'intervento attuale, se è quale via, con sette iscritti ad oggi e che, diciamo, speriamo possano aumentare nel corso dei prossimi mesi. Non ha, tecnicamente, per un momento, diciamo, strutture, non ha, diciamo, strumenti finanziari e quindi, siccome nasce all'interno dei nostri iscritti, quindi si raccomandava, diciamo, un supporto nelle iniziative, quelle che saranno iniziative della cellula napoletana, un supporto da parte dell'Associazione Radicale della Grande Napoli, mettendo a disposizione quelli che sono gli strumenti che l'Associazione della Grande Napoli ha. Quindi era un supporto in una fase iniziale, locali, su quel supporto tecnico, un aiuto, diciamo, in questa fase, che è una fase iniziale della cellula. Iniziamo. Va bene, penso che se siamo d'accordo, gli organi dirigenti uscenti potremmo accettarla come raccomandazione, perché in questo caso, appunto, il regolamento, almeno la lettura che mi ho fatto non chiarisce poi la raccomandazione, se vanno votate oppure, cioè, essendo una raccomandazione che c'è qualcuno che la deve accettare, in questo caso penso che la possiamo accettare tutte e tre, così pure il futuro di dubbio, insomma, vengono magnificati. Allora, a questo punto che cosa abbiamo accettato? Anche la raccomandazione di Paolo Preccia. Dobbiamo, secondo l'ordine del giorno, credo a questo punto, soltanto votare, prima, presentare le candidature per gli organi dirigenti dell'Associazione, per la carica di segretario, per la carica di tesoriere e quella di Presidente. Quindi, se c'è qualcuno che vuole presentare delle candidature... Ah, c'è Emilio, di nuovo. No, volevo solo dire una cosa, ringraziare tutti quanti, abbiamo raccolto stasera 705 euro, un grosso applauso a tutti quelli che hanno accettato il video, riusciremo a fare questa sala e mettere da parte qualcosa per dare l'inizio a te. Va bene, certo, abbiamo stampato anche i volantini, così, quindi penso che iniziamo il congresso, probabilmente ce lo siamo pagati anche quest'anno e penso che è un bel risultato. In più, ci sono anche le sette iscrizioni a Nessuno d'Occhi Caino, altri sette centriere, insomma, oggi qua abbiamo mosso pure un po', non lo so, sono andate via, però comunque bene, questa è la giornata, qua è circolato, ci siamo tassati un'altra volta, anche sotto Natale. Va bene, allora, a questo punto, chi c'è Luigi che vuole fare una candidatura? Io presento come candidato segretario per l'anno 2013 all'Associazione per la Grande Napoli Giuseppe Alterio. Cioè, prima la fase della presentazione, non lo so se ci dobbiamo presentare a sole, se nessuno ci vuole dire, magari Rodolfo, se potessi fare, Natale, a questo punto vi dico che io comunque sono disponibile a farlo un altro anno da Presidente dell'Associazione, per me sarebbe un grande onore, quindi comunque, mi capito. Vabbè, anche il tesoriere si candida di nuovo a... Devi presentare eventualmente la candidatura. Di Rodolfo? Eh, si è autopresentato? Si è avuto. Eh, io vi sono autopresentato a me. Sì, questo qua. Ok. Ci sono altre... Il corpo di scena, ecco. Ecco il... Allora, è compiacere che presento la candidatura di Rodolfo Viviani e la sostengo meritatamente. E' un po' di ammiglia di Roberto, vai. Sì, sì, sì. Anzi, con una questione per dire che avendo presentata la candidatura l'anno scorso di Roberto Gaudioso, mi ritengo veramente soddisfatta perché è stato all'altezza del compito, è andato anche oltre. Quindi, vi raccomando, anche questo. Buona votazione. Grazie. A questo punto abbiamo praticamente soltanto da ritirare le schede. Il nostro tesoriere sicuramente avrà sotto controllo dove stanno queste qua. Le penne, ecco, questa è la sorta dell'urna, queste cose. Vabbè, a questo punto sospendo per i lavori, per il tempo necessario, per le operazioni di bonti, credo che ci vorranno un massimo di 10 minuti e cercheremo di vedere il più breve tempo possibile per la proclamazione dei diretti. Ok, dopo un veloce scrutinio possiamo dire che per la carica di Presidente ci sono 23 voti per Viviani e nessun altro tipo di voto espresso. Per la carica di segretario 23 voti per Giuseppe Alterio e un voto per Luigi Mazzotta. Non valido, però. No, ma c'è, lo devi chiamarlo. E per la carica di segretario 23 voti. Nessun altro ha ricevuto 12, c'è stata una scheda in cui non era espressa la preferenza per il Presidente e per il tesorario. Detto questo, dichiaro, proclamo eletti alle cariche associative dell'Associazione per l'anno 2013 come segretario Giuseppe Alterio, come tesoriere Roberto Caudioso e come Presidente. E' stata una giornata veramente bellissima che si vede, non ce l'hanno da andare più. Quindi ma già sta zitto, ma se ne sta già prendo tanto, sarei qua che abbiamo un squadro di quasi due ore, l'ordine dei lavori e quindi alla prossima. Ciao, ciao. Grazie.